buonasera a tutti e bentornati su italia military archives questo come avevo preannunciato è un settembre molto ricco di contenuti e non ci esimiamo anche negli ultimi due giorni del mese come avete visto dalla programmazione insomma abbiamo fatto già due approfondimenti un video una live su i sommergibili e questa sera la prima puntata di una serie di due forze tre sulla storia di sommergibili italiani e con me stasera c'è uno dei massimi esperti di sommergibili in italia il comandante marco mascellani a cui diamo il benvenuto buonasera a tutti grazie per il massimo indegnamente credo bene il comandante allora è sommergibilista appartiene al genio mavale è stato direttore di macchina sul sommergibile toti per fare un una citazione di un sommergibile abbastanza famoso e e poi come antonio raspa che era l'ospite della live precedente membro della dell'associazione culturale beta marco mi sono dimenticato qualcosa vogliamo mettere la direzione sul da vinci che è un'altra direzione su cui a cui sono molto affezionato e libri e riviste del settore che ho bazzicato per un po di tempo fino a fino a qualche anno fa l'ultima è stata una una bel libro intervista che abbiamo fatto con con un sociologo sulla sulla vita a bordo dei dei sommergibili e più in particolare dei toti direi non andrei oltre perfetto bene allora stasera abbiamo una tua presentazione molto ricca che insomma ci porterà nei primi trent'anni del della storia dei sommergibili italiani quindi dal 1892 al 1922 con un piccolo preambolo diciamo di qualche secolo no come se vuoi puoi portare la presentazione allora sì è esattamente mente così allora vediamo se ci riesco tanto saluto tutti quelli che si stanno connettendo e poi dovremmo riuscire per la seconda metà del mese di ottobre a fare la seconda puntata nella quale copriremo si sta caricando dicevo nella seconda puntata copriremo il periodo invece dal dal 22 fino al termine della seconda guerra mondiale allora sta caricando perché insomma forse è pesante ovviamente durante la diretti il bello della diretta domanda se state vedendo la presentazione no sta ancora caricando quindi forse ti ti chiederei di aprirla tutto schermo sul tuo schermo se non l'hai già fatto aspetta provo a rifare la procedura perché ho lì sì sì buona sera a tutti condividi schermo ovviamente poi attendiamo le vostre domande in chat questa volta ci dovremmo essere eccoci vai proviamoci vediamo se riusciamo a partire dunque il mezzo che si immerge è un qualcosa di affascinante ed è qualcosa che dai primordi della storia umana coinvolge la fantasia dei guerrieri perché in fin dei conti è soprattutto lì che si è concentrata nel tempo la volontà di cercare di capire come nascondersi sotto il mare ma allo stesso tempo riuscire ad arrivare al bersaglio in questa prima di due puntate parliamo un pochettino della preistoria e della nascita del mezzo subacqueo quindi arrivando al primo vero impiego del sommergibile che è la prima guerra mondiale e quello che succede subito dopo ho scelto la conferenza di washington come separazione tra i due momenti perché effettivamente il momento topico in cui le lezioni apprese per chi le ha volute apprendere saranno applicate successivamente e porteranno alla seconda guerra mondiale o come dicono alcuni autori alla seconda parte della guerra dei trent'anni che si è svolta nel ventesimo secolo prima però di parlare di storia credo che sia importante introdurre che cos'è un mezzo quali sono le sue problematiche fondamentali di gestione sott'acqua di qualcosa che non deve essere pericoloso per chi lo sta usando ma anzi lo deve accompagnare a svolgere la sua missione ho scelto chi mi conosce e sa che sono particolarmente affezionato ai toti che sono stati la mia prima direzione di macchina ho scelto proprio un sottomarino della classe toti per introdurre l'argomento tecnico dei battelli che ve lo anticipo subito chiamerò sommergibile o sottomarino indifferentemente come se fossero dei sinonimi in realtà lo vedremo tra qualche slide sinonimi non sono prendiamo il nostro toti che è un sottomarino per darvi un'idea delle dimensioni infilato due corriere sotto ma ho scelto un toti anche perché per chi vuole è visibile sia al museo della scienza e della tecnica di Milano sia all'interno del museo storico navale di Venezia all'interno dell'arsenale se noi sezioniamo il nostro toti vediamo che la prima cosa che salta all'occhio è una parte dello scafo particolarmente spessa si chiama scafo resistente è quella parte del battello che deve preservare dalla pressione del mare e quindi dall'ingresso dell'acqua e le apparecchiature e gli esseri umani all'interno quindi troveremo ad esempio le batterie di propulsione ci saranno delle casse nella fattispecie queste erano casse per immergersi e casse gasolio altre casse gasolio l'impianto di propulsione che a differenza dei locali che abbiamo visto prima sono locali dove si può entrare ma normalmente non vivibili o locali ausiliari questo mezzo per immergersi l'animazione l'ho prelevata dal nostro sito di Betasom ha all'esterno dello scafo resistente delle casse possono essere a propria poppa possono essere ai latri lo vedremo successivamente si chiamano casse zavorra o doppi fondi vengono completamente allagate per annullare la riserva di spinta completamente esaurite per recuperare la riserva di spinta e quindi ritornare in superficie il mio insegnante una persona che nel mondo dei sommergibili è ancora famosa anche se purtroppo non è più con noi l'ammiraglio ranieri era solito entrare in aula e prima ancora di rivolgersi ai discenti prendeva il gesso e in alto a destra scriveva più uguale ad esse ricordandoci ogni giorno che peso uguale alla spinta era l'undicesimo comandamento ed è tuttora l'undicesimo comandamento del sommergibilista poi dopo all'interno si vede sempre nell'animazione ci sono delle altre casse si chiamano assetto e compenso e servono a regolare in maniera più fine il peso del battello in modo da mantenere appunto la spinta idrostatica uguale al peso complessivo del nostro battello è chiaro che sott'acqua il battello per muoversi non userà queste casse che sarebbero quanto meno rumorose e poco pratiche ma impiega l'idrodinamica quindi sia i timoni timoni verticali per muoversi in rotte timoni orizzontali per muoversi in quota e sfruttando appunto la velocità del battello quindi la sua idrodinamica questa è la parte fondamentale poi vedremo che ci sono molte altre parti che coinvolgono il nostro battello ma ci arriveremo col tempo ovviamente vi prego di fermarmi in qualsiasi momento vi chiedo scusa ma temo di essere beccati il raffreddore per cui ogni tanto avrò bisogno di una piccola pausa per analizzare la storia del sottomarino non possiamo prescindere da analizzarne la tecnica del battello quindi ho suddiviso le fasi in cinque periodi fondamentali nel quale vedremo che la tecnica si sviluppa partendo dalla teoria dello scafodo resistente e di come immergersi poi dopo vedrà come muoversi sott'acqua come offendere da sott'acqua o da sopra e per ultimo ma vale anche per qualsiasi altro mezzo la sicurezza e l'affidabilità dello stesso per la storia adesso la andiamo a vedere direttamente iniziamo dalla preistoria nel suo significato normale quello che intendiamo quando la studiamo la studiavamo a scuola qualche anno fa ormai e quindi quando non c'è ancora uno scritto che ne parli in realtà quello che sappiamo che ci viene tramantato è che già Alessandro Magno durante l'assedio di Tire tentò nel 330 a.C. con una campana di rompere l'assedio della città salto tanti altri tentativi più o meno famosi ma anche come dire più o meno forse fantasia che storia per andare a quello che tutti quanti conoscono come il primo tentativo di sottomarino in realtà sono in tanti a imputare a Leonardo da Vinci la nascita del battello quantomeno il concepimento in realtà nel codice atlantico c'è solamente una parte di quello che disegnò Leonardo da Vinci perché scrisse per timore di quanto potesse essere letale questo battello ne cancellò o ne strappò comunque i disegni pochi sanno invece che in realtà qualcuno aveva già concepito e molto meglio di Leonardo da Vinci il mezzo sottomarino il riminese Roberto Valturio circa vent'anni prima al servizio della Serenissima nel suo libro dei re militari aveva concepito lo scafo resistente era uno scafo in bronzo era mosso da delle strane pale che facevano resistenza nel suo esterno non è chiaro come il personale potesse entrare all'interno di questo mezzo ma è il primo che capisce che per preservare dall'acqua e dalla pressione esterna qualche cosa che siano gli uomini che siano le armi o che siano le apparecchiature che arriveranno mi serve uno scafo resistente il passo successivo lo facciamo circa cento anni dopo quando il Borna ma siamo ancora a livello di disegni e non di pratica e capì che bisognava dare retta ad Archimede quindi per annullare la riserva di spinta e raggiungere la parità tra peso e spinta bisognava inventare un marchigegno che consentisse di aumentare il peso e lui lo fece con questi vitoni che muovevano delle paratie collegate allo scafo da dei dei teli di cuoio e potevano aspirare o respingere all'infuori l'acqua quindi in un modo o nell'altro raggiungendo la parità tra peso e spinta che ci serviva arriviamo pochi anni dopo alla prima vera esperienza documentata quindi entriamo nella storia a tutti gli effetti la prima esperienza ma tenete presente che sto toccando solamente i momenti fondamentali ci sono state tante altre come devo dire storie nel mezzo di questi che sono i punti focali cornellius valdrebbel nel 1620 attraversò il tamigi quindi siamo a londra con un mezzo che navigò sott'acqua in realtà lo potremmo definire oggi semi sommergibile però intanto era sott'acqua era isolato dall'atmosfera esterna e tra le cose che viene scritto sembra che abbia trovato la quintessenza dell'aria e che quindi permettesse a chi era all'interno di questo mezzo sigillato di continuare a respirare nonostante la produzione di anidride carbonica il passo successivo anche se a dir la verità noi dovremmo passare di nuovo per la serenissima perché nelle nei dati negli archivi della serenissima c'è un documento che pur non riportando i disegni però descrive abbastanza dettagliatamente un mezzo sommergibile per portare per portare gli incursori a candia all'attacco dei degli ottomani quindi una sorta di primo genitura di cui però non abbiamo dati veramente concreti di questo mezzo che è l'antesignano del trasportatore degli incursori il primo mezzo impegnato in un'attività bellica lo troviamo durante la guerra di indipendenza americana il tartel scusate portato dal sergente ezra lee che si portò sotto la fregata britannica eagle e con un succhiello quindi una sorta di trappano manuale avrebbe dovuto fissare un barilotto di esplosivo sotto il vascello nemico e innescarlo e poi farlo esplodere in realtà non ci riuscirà perché le navi erano foderate di rame per cercare di impedire che le teredini e rovinassero lo scafo una cosa che evidentemente negli stati uniti non era stata considerata e quindi l'attacco non andò al buon fine però è il primo attacco documentato di in un'attività bellica di un sottomarino non passa molto tempo siamo durante le guerre napoleoniche che il fulton concepisce e costruisce un mezzo che comincia veramente ad assomigliare a un sottomarino ancora la propulsione manuale che prova a muovere un elica scusate al suo scafo resistente in rame anche questa volta è in grado di immergersi di rimanere immerso per un certo periodo in realtà la francia non vorrà questo mezzo che giudica giudicherà poco onorevole il fulton dice vabbè se non lo vuole uno lo vuole quell'altro va in gran bretagna riceve esattamente la stessa risposta per cui il suo nautilus in realtà rimarrà una cattedrale nel deserto non non sarà mai operativa perché siamo ancora in un periodo in cui è l'onore del affrontarsi pennone contro pennone è imprescindibile da qualsiasi altro gesto a meno di andare a considerare come dire marine in quel momento ancora del terzo mondo come erano gli stati uniti prima dell'indipendenza c'è un passo successivo invece questa volta siamo alla guerra tra nordisti e sudisti che contraddistingue un altro momento fondamentale il nord ha bloccato i porti del sud e quindi la l'impossibilità di commerciare sta strangolando il sud degli stati uniti cercano in ogni modo di rompere questo assedio e uno dei modi è impiegare dei battelli che prendono genericamente il nome di david fino a che il diciamo l'inventore costruttore non perirà in uno di questi dopodiché assumeranno il loro nome ovvero alle nel 1964 uno di questi riuscirà ad avvicinare la corvetta asatonic nordista e ad affondarla grazie alla grazie alla carica che aveva in fondo ad un'asta quindi ad una certa distanza in realtà la carica probabilmente danneggerà anche il battello tant'è che non farà ritorno alla base e tra l'altro il realità è stato recentemente ritrovato e riportato alla superficie più o meno nello stesso periodo stiamo parlando del 1884 siamo in svezia ma i battelli svedesi saranno venduti anche ad altre marine il Nordenfeld applica per la prima volta il siluro ad un battello dopodiché arriviamo al 1887 che è la data riconosciuta del primo sottomarino attenzione perché c'è un sottile distinguo in in questa storia perché nello stesso periodo nelle stesse date più o meno ci sono altre nazioni che stanno producendo dei sottomarini nella frattispecie in spagna isaac per alla sta producendo un battello che per certi versi potrebbe anche essere superiore al gymnote allora perché si assume il gymnote come il punto di partenza della storia moderna del sottomarino e del sommergibile adesso vedremo quali sono le differenze e dov'è che viene a separarsi una prima e una seconda volta questa storia perché mentre il per alla che per chi vuole vederlo è esposta anche se è una riproduzione in un porto spagnolo il gymnote in realtà era stato voluto dalla marina francese che da tempo stava investendo risorse umane e finanziarie per cercare di portare ad un'affidabilità decente un mezzo per poterlo per portare l'offesa in quel momento alla gran bretagna l'italia che invece non era molto attenta ai battelli sottomarini stava però guardando con molta attenzione la francia e il brini in quel momento ministro della marina ancorché fosse uomo delle grandi navi e degli scontri tra forze navali non poteva girarsi dall'altra parte nel vedere quanto veniva propagandato il mezzo subacqueo d'oltre alte tenendo presente che era uno dei due nemici e in quel momento estremamente probabili della giovane italia l'altro nemico era ovviamente nostra ugheria però nel 1887 la il patto tra italia australia e germania era già in essere pertanto diciamo era considerata la francia l'unico vero nemico che poteva veramente diventare tale mi fermo un attimo sulla storia per andare nella tecnica perché potono è poco noto ma in realtà all'interno della tecnica dei sottomarini c'è veramente tanto di italiano una piccola premessa la facciamo con la macchina a vapore di watt quindi non siamo in italia la cito anche se in realtà il gym not non ha ancora una propulsione a vapore ci stiamo per entrare comunque però è chiaro che senza le macchine a vapore le officine non avrebbero avuto le capacità tecniche tecniche per costruire questi mezzi poco dopo arriva la pila di volta le batterie dei battelli si basano sull'invenzione del nostro volta ancora questo è penso poco noto tranne agli appassionati ma il motore endotermico non è un'invenzione tedesca ma è un brevetto assolutamente totalmente italiano di versanti matteucci targato 1853 diesel e poi benz arriveranno dieci anni dopo abbondanti in alcuni casi non solo la dinamo e quindi anche il corrente il motore a corrente continua arriva nel 1260 per opera di pacinotti un altro essenziale italiano pochi anni dopo l'ingegnere scozzese white ed a fiume sviluppa l'invenzione del comandante della marina austro-ungarica istriano lupis sviluppando appunto il primo siluro che è come dire rimarrà anzi per lungo tempo il l'arma per eccellenza dei sommergibili e dei sottomarini ancora van de boss in olanda inventa la girobussola e quindi il primo sistema che permette di avere una rotta affidabile per i battelli perché ovviamente la bussola magnetica all'interno di uno scafo completamente metallico dava i numeri ma l'apporto italiano non è ancora finito perché ci sono i motori induzione inventati dal ferraris pochi anni dopo che hanno ovviamente anche il loro perché all'interno di un loro battello andiamo avanti e negli stessi periodi in cui il sottomarino il gym not abbiamo assunto prende forma e fa le sue prime sperimentazioni il l'ammiraglio ob in francia sta creando una corrente di pensiero scapigliata viene definita da alcuni però è diciamo riconosciuta una minima mente col nome di gene col perdonatemi il mio francese con anche il raffreddore diventa veramente difficile riuscire a commentare sì ma no 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 certo certo il la gene col aveva come filosofia non più lo scontro tra le grandi navi quindi tra corazzate navi da battaglia in un epico combattimento dove il vincitore avrebbe avuto il dominio del mare ma era invece convinto soprattutto grazie alla nascita del siluro che piccole unità avrebbero permesso di ottenere lo stesso risultato addirittura con costi minori sia in termini di vite umane sia soprattutto finanziari ecco quindi che quello che era il difetto fondamentale del sottomarino fino a quel momento che si chiamasse ginnotte che si chiamasse delfino ma ci sono anche altre realizzazioni in quel momento dove la propulsione era esclusivamente elettrica e quindi una velocità di pochi nodi un'autonomia di veramente poche miglia viene stravolta dalla gene col che applica un motore in questo caso un una motrice a vapore al nostro sottomarino gli dà delle forme da nave di superficie quindi che sia in grado di mantenere maggiormente il mare rispetto al sottomarino che invece nasce per rimanere quasi esclusivamente sott'acqua e col narval del 1899 gustavo zede ha inventato il sommergibile quindi ricapitolo velocemente quella che la differenza ancora oggi riconosciuta tra sommergibile sottomarino il sottomarino è un mezzo che è progettato per navigare sott'acqua quasi nella totalità della sua vita e emerge esclusivamente quasi esclusivamente nel momento in cui deve entrare uscire da porti ossorgitori o in un'epoca più moderna quando entra ovviamente nelle acque costiere di stati stanieri ma tornando a noi il sommergibile è quindi l'esatto opposto quindi è un mezzo che è progettato per navigare in superficie e che ha facoltà di immergersi queste facoltà saranno il punto focale per molto tempo di che cosa deve fare un sommergibile o un sottomarino perché ancora nel 1900 non è chiaro ci sta pensando a un mezzo di difesa qualcosa da mettere vicino ai porti ancorché si sia arrivato a 200 miglia di autonomia non c'è ancora una visione di come sarà impiegato questo mezzo il passo successivo è fondamentale in realtà holland sta lavorando da molto tempo sui suoi battelli è assieme al peral un altro dei pionieri dei battelli e in realtà i suoi mezzi nati prima del g not erano sicuramente più performanti dello stesso però vale lo stesso discorso del peral ovvero holland sta lavorando in proprio gli stati uniti sono ancora lontani dal acquisire un mezzo dall holland per approfondire e quindi portare avanti questa cosa guardate che non sono gli unici perché anche la gran bretagna nel 1900 e la germania non hanno ancora deciso di dotarsi di un battello per motivi differenti ma sono ancora lì alla finestra mentre la gran bretagna sta dicendo finché è un mezzo che non è affidabile che ha delle prestazioni risorie non è un pericolo per il mio dominio del mare la germania invece sta aspettando che diventi un mezzo affidabile per capire come impiegarlo e lo capirà lo vedremo veramente molto bene talmente tanto bene che nel 1906 inizia a produrre i propri battelli dopo pochissima sperimentazione arriva ad una classe affidabile nel 1910 e nel 1910 viene rimesso in cantiere lo u9 u come molti sanno sta per un terzai vota quindi sommergibile detto in tedesco abroghiati in ubota lo vedremo dopo per quando cominceremo a vedere la storia della prima guerra mondiale 9 è famoso perché all'inizio della prima guerra mondiale ha fondato tre incrociatori senza praticamente britannici ovviamente senza farsi vedere quindi di fatto facendo capire quanto potesse essere letale questo mezzo subacqueo è un momento fondamentale della storia dei battelli ed è il momento in cui la germania fa capire di avere compreso perfettamente come impiegare questo mezzo e lo insegnerà al mondo per due volte consecutive perché passeranno poco più di vent'anni in quella che è riconosciuta da alcuni come la seconda guerra dei trent'anni ma stiamo parlando ovviamente della seconda guerra mondiale e nuovamente la germania nonostante il divieto di costruire dei sottomarini o sommergibili per un periodo molto lungo che bypasserà in realtà con andandoli a costruire per altre marine come quella finlandese ritornerà all'inizio della seconda guerra mondiale da capo con un mezzo performante e con una tattica per impiegarli tattica e strategia che invece pochissime altre marine si sono oserei dire degnate di andare ad approfondire un'altra tappa fondamentale torna all'italia che già con la prima guerra mondiale aveva fatto capire che gli incursori e i mezzi insidiosi erano nel suo dna ed è lo scire ovviamente stiamo parlando del dicembre del 41 come evento scatenante ma già da prima con gibilterra aveva segnato diversi colpi interessanti e quindi il sommergibile poi diventerà sottomarino come mezzo trasportatore di mezzi insidiosi arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale per una serie di motivi tecnici e quindi lo sviluppo delle armi che danno la caccia al sommergibile il sommergibile ritorna sottomarino quindi si va di nuovo alla ricerca di un mezzo che tatticamente e strategicamente dovrà operare da solo perennemente sott'acqua e quindi dovrà avere grande velocità sott'acqua grande autonomia sott'acqua rispetto ai vecchi mezzi sommergibili anche in questo periodo c'è un influsso fondamentale nello sviluppo dei sommergibili il primo sviluppo lo da guglielmo marconi con la telegrafia senza fili ovviamente loro sviluppo che se ci pensate lo sta dando ancora oggi con i satelliti perché in fin dei conti senza di lui neanche quelle esisterebbero ma torniamo a noi il chiaro che la poter comunicare con i sommergibili prima di marconi e anche durante la prima guerra mondiale alcuni sommergibili avevano ancora ancora i piccioni viaggiatori per comunicare con la base immaginatevi e prima di marconi non era poteri possibile organizzare degli attacchi ed è verso la fine della prima guerra mondiale ancorché con uno sviluppo diciamo ancora in embrione che grazie alla possibilità di comunicare via radio viene concepita la tattica del branco di rupi in germania scusate poco noto anche questa volta ma stavolta perché la primo genitura è molto difficile da stabilire per il periscopio dove nel giro di pochissimi anni gli americani i francesi gli italiani si litigano la primo genitura però mi piace pensare che anche osservandolo il periscopio del triulzi lo vedremo dopo come nasce è in realtà quanto di più vicino sia a un periscopio moderno e come tale ritengo che la primo genitura possiamo sicuramente accollarcelo a noi anche del periscopio non così invece dell'idrofono che nasce negli stati uniti da una associazione una società nel 1901 pochi anni dopo fessenden tedesco ma in realtà stava lavorando in canada sviluppa il telefono subacqueo quindi un sistema per poter comunicare sott'acqua che poi è la base di partenza per l'asdic e quindi quello che viene conosciuto come sonar ovvero quel sistema che emettendo delle onde sonore e recependone il ritorno riesce a capire qual è la distanza del mezzo che ha individuato sott'acqua che invece scusa marco la il discorso sull'idrofono invece un sistema per captare i rumori del esatto che creava comunque dei problemi perché spesso il rumore dell'apparato motore della nave su cui da cui veniva calato l'idrofono poteva interferire quindi c'erano molti problemi non nell'utilizzo dell'idrofono è proprio così tant'è vero che i nostri motoscafi anti sommergibile è una cosa di cui non tratteremo ma può essere utile come curiosità a parlarne in questi momenti i nostri massa avevano un doppio apparato di propulsione esattamente come i sommergibili dell'epoca quindi avevano un apparato a produzione e a benzina in realtà in quel momento perché gli serviva alta velocità e avevano un apparato motore elettrico proprio per il momento in cui erano in caccia del sommergibile quindi filavano sott'acqua gli idrofoni e questa la dice lunga su quanto la fosse ancora lontana la capacità di silenziare le unità anche le corvette gabbiana classe gabbiana adotteranno questa questa soluzione usi ma in realtà sono molte le navi che successivamente si dovranno adeguare a questa situazione proprio perché la capacità di silenziare realmente l'emissione del sia degli apparati che sono all'interno dello scafo sia delle eliche si raggiungerà solamente negli anni 70 del secolo scorso quindi 1970 prima riuscì a silenziare era veramente veramente difficile per intenderci quegli sistemi di silenziamento e non erano ancora diciamo efficaci come si auspicava furono applicati sulla classe maestrale per dare un'idea del nostro periodo come applicazione di questi sistemi di silenziamento torniamo a noi dopo l'asdic siamo dopo la la prima guerra mondiale è di nuovo in italia che una invenzione lascia presagire un futuro differente l'apparicchio ml ideato da pericchi ferretti un ingegnere che all'epoca era anche ufficiale della marina militare è il precursore dello snorkel ed è in assoluto il primo snorkel al mondo perché non è conosciuto nel mondo perché in realtà i tedeschi che sono conosciuti come coloro che l'hanno impiegato lo snorkel copiarono un'invenzione olandese che nascerà cinque anni dopo però sarà applicata sui battelli olandesi mentre invece come per il radar e come per tante altre storie che conosciamo in italia e lo snorkel o apparecchio ml come era chiamato all'epoca che doveva essere applicato per primo sui battelli della classe sirena una classe 600 che sarebbe nata negli anni 30 in realtà nonostante fosse stato già assemblato a fin cantieri scusate ai cantieri dell'adriatico di monfalcone non sarà mai applicato un vero peccato e anche la storia raccontata gino galoppini in un agile libretto veramente affascinante di come sono stati ritrovati i documenti del ferretti c'è un ultimo apporto italiano a sottomarino ed è ovviamente quella dei ragazzi di via panisperna capitanati dal fermi che nel 1926 con la teoria delle particelle entra nel nella conoscenza dell'atomo e quindi in quella che diventerà sia la propulsione sia l'arma dei battelli del secondo dopoguerra e quindi torniamo ai battelli da secondo dopo guerra d'oggi vi ho già accennato che l'apparecchio ml e antesignano dello snorkel già stava facendo presagire che forse c'erano delle necessità differenti e la sperimentazione di questo snorkel avvenne a bordo del sommergibile h3 un holland costruito in canada lo vedremo dopo e portato in italia in un momento in cui l'italia non aveva ancora abbastanza battelli per fronteggiare l'austria ungheria e è storica questa fotografia dove per lungo tempo ci si è chiesto come mai il duce che è quello che sta scendendo dalla scaletta fosse saluto a bordo di un battello così vecchio in una città in una colonia perché siamo a tripoli al termine di un'esercitazione il motivo era esattamente che era andato a vedere lo snorkel di ferretti un altro momento propedeutico alla nascita del sottomarino sia in germania magari una cosa diciamo la per per il pubblico c'è che lo snorkel è un sistema che permette la ricarica delle batterie del motore elettrico non facendo emergere il battello giusto è corretto fermatemi quando dopo le scontate troppe cose in realtà è esattamente uguale a quella cannuccia che usiamo quando siamo al mare con la maschera per guardare sott'acqua quindi mentre il sommergibile è a quota periscopica per dare un'idea della quota alza questa cannuccia mette in moto i motori mette in depressione all'interno del sommergibile sottomarino quindi dalla cannuccia entra l'aria che lava all'interno del sommergibile quindi è anche l'area viziata e la rigenera dopodiché la porta fino ai motori lava ovviamente anche il locale delle batterie che producono idrogeno arriva ai motori viene bruciata e viene buttata fuori bordo in questo modo i motori possono caricare le batterie e quindi recuperare l'autonomia subacquea del nostro sommergibile sotto meno che dir si voglia spero di essere stato chiaro se non lo so chiusa parentesi stavo dicendo siamo all'inizio della seconda guerra mondiale hitler sta dando grande impulso a tutte quante le tecnologie e non solo a quelle ci sono tante favole che narrano di ricerche anche ai limiti della della scena però in realtà qualcosa che è stato veramente realizzato ed è l'antesignano del sottomarino moderno a tutti gli effetti il vuottanta era stato costruito non solo con forme idrodinamiche come potete vedere ma aveva anche l'apparato motore unico aveva un apparato per ossido di idrogeno non entro nei particolari per come funzionava però sappiate che nel secondo dopoguerra quando gli inglesi tentarono di riprodurre quell'apparato propulsivo la classe di battelli che si chiamava explorer fu soprannominata exploder e questa radice lunga sull'affidabilità dei del sistema o sulla capacità degli inglesi di condurre questo sistema fatto sta che non ha avuto un futuro anche il v80 comunque come l'h3 o come vedremo il delfino in realtà rimarrà all'interno di un magazzino per un po di tempo la sua tecnologia sarà rispolverata nel 44 perché sarà uno dei due sistemi su propulsivi del tipo 21 il 21 che è riconosciuto come il primo sottomarino moderno in realtà aveva la propulsione diesel elettrica con lo snorkel esistiva anche un altro tipo se ricordo bene il 25 che invece di avere la batteria la propulsione diesel elettrica aveva appunto la propulsione con le turbine per ossido di idrogeno assicurando addirittura una velocità maggiore sott'acqua però con tutti i rischi che poteva comportare una conduzione del genere e con un'autonomia minore andiamo avanti il passo successivo è la propulsione nucleare quindi la primavera propulsione unica per un sottomarino e affiancato al nautius arriva anche l'albacore ci serve molto da dire su questo mezzo e su chi lo volle che è l'ammiraglio momsen ma ne parleremo magari una volta che parleremo del soccorso dei sommergibili silistrati perché è lì che momsen diede il suo massimo apporto una puntata sui sottomarini della guerra fredda ma molto volentieri come un punto su una puntata sulla guerra fredda non ce la toglie nessuno il nostro albacore che nasce come un mezzo ausiliario tant'è che non è ssn ma è sgc è un mezzo per sperimentare le forme idrodinamiche quindi come deve essere fatto lo scafo come devono essere fatti timoni come devono essere fatte le eliche infatti ci sono fotografie in cui si vede dove ai timoni a croci di sant'andrea invece che a croce normale dove si vede che ha una doppia elica invece di un'elica singola eccetera eccetera però è sulla base di queste sperimentazioni che tutti i battelli della nato dagli anni 50 ad oggi basano le loro forme nel 1959 arriva il primo sommergibile lanciamissili balistici e quindi e la guerra fredda un'atteriore accelerazione e nel 67 nasce un battello che invece è molto prezioso anche per noi italiani l'u1 negli anni 80 sarà il battello che sperimenterà le celle combustibili per intenderci le celle combustibili sono uno scatolone mi perdonerà il mio professore di fisica per le bestemme che sto per dire è uno scatolone dove all'interno io butto dentro idrogeno ossigeno e da quell'altra parte escono acqua ed energia elettrica entrambi utili a bordo del sommergibile a un prezzo di produzione di rumore zero produzione di calore minimo che tra l'altro serve proprio per ottenere l'idrogeno da come è stato stivato all'interno del battello per cui è il mezzo ottimale tant'è vero che è impiegato sulla maggior parte dei sottomarini attuali tra cui quelli della marina italiana itodaro o 212 l'ultimo battello che fa parte di questa storia nel master gotland perché sperimenta l'alternativa alle celle combustibili ovvero il motore stirling è un pochettino più rumoroso consuma molto di meno permette di usare il gasolio e quindi non si deve portare dietro idrogeno e ossigeno ma solamente l'ossigeno ha avuto un certo successo oltre che in svezia anche in altre marine soprattutto in giappone ed è come dire forse il la ip dei poveri e la propulsione a ciclo chiuso dei poveri andiamo avanti vi ho detto che parallelamente alla tecnica andava avanti anche l'evoluzione dei soccorsi è un discorso veramente particolare anche questo meriterebbe probabilmente una chiacchierata a parte da dedicargli per il momento facciamo una corsa veloce per vedere all'interno degli anni in cui il sommergibile sta crescendo come si evolve il soccorso a sommergibile sinistrato tra il 1900 e il 1914 quindi all'inizio della prima guerra mondiale la media di battelli che vengono persi è di due sommergibili all'anno guardate che è una media altissima tra l'altro in questa media non compaiono alcuni battelli faccio un esempio qui compare uno italia in realtà dovrebbero essere due perché un battello della classe f è affondato quando era ancora di proprietà del cantiere quindi non figura della marina militare ma è stato recuperato grazie alla preveggenza e la lungimiranza di uno dei nostri migliori ingegneri di sommergibili cesare laurenti ne parleremo molti in seguito la nave che è comparsa in questo momento è la ceara è stata costruita per la marina brasiliana assieme a tre sommergibili della classe f da laurenti cantieri del mugiano e la cosa bella è che al suo interno aveva un bacino che poteva anche essere pressurizzato e che le gru che vedete poppa erano in grado di sollevare dal fondo del mare un battello della classe f e quindi la ceara che era già pronta riuscire a salvare il battello classe f che era affondato poco fuori dalla spezia e tutto l'equipaggio che era all'interno per abbandonare perdonate questo vecchio sommergibilista che è ancora un po attento a certe parole superstizioso per abbandonare un battello che era fermo sul fondo all'epoca c'erano queste specie di scafandri difficilissime da impiegare pesanti e meno male che non c'è stato mai l'occasione di impiegarli perché probabilmente non avrebbero dato un buon risultato saltiamo la prima guerra mondiale perché palesemente è difficile capire se e come si sarebbero potuti salvare i battelli e analizziamo quello che è successo tra le due guerre mondiali scende leggermente l'indice di battelli che vengono persi all'anno l'italia subirà due perdite che segneranno molto veramente tanto l'opinione pubblica saranno le f14 e il veniero ma lo vedremo successivamente quello che però ci fa pensare è che perdita di questi battelli farà sì che il governo a cominciare da benito mussolini a scendere per tutta quanta la catena imprimerà una forte spinta per salvare gli equipaggi per cui oltre alla maschera davis che qui vedete che è lo sviluppo di quegli scafandri che si usavano prima della prima guerra mondiale il belloni ricordate di questo nome perché ne sentiremo parlare molto spesso prossimamente che ecco il signore che in fotografia vedete in basso a destra e applica una vasca particolare la fa prima su un battello italiano ma poi dopo sarà applicata di serie sui battelli brasiliani una vasca per poter abbandonare il sommergibile rimasto sul fondo attenzione perché questo sistema con lievissime migliorie è applicato ancora oggi per la velocità di emergenza quella collettiva andiamo avanti proprio a seguito dei disastri di venire ed f14 nasce l'apparecchio girolimiarata è una sorta di ascensore una capsula contenuta all'interno di un tubo stagno dentro la sommergibile dovente una persona e questa persona arriva sana salva in superficie senza avere problemi di emboli e gassosa senza avere problemi di emboli e traumatica sembra l'uovo di colombo in realtà non non sarà mai usata attivamente durante la guerra sarà addirittura sbarcata perché era fonte di rumori però è molto vicina come concezione a un'invenzione americana la campana meccana e questo mi obbligherebbe a ritornare al discorso dell'albacor e a quell'ammiraglio che vi ho citato prima perché in realtà la macchia la meccana non è stata inventata dal ufficiale che così si chiamava ma è stato inventato dall'ammiraglio di cui vi parlavo prima su edem homsen che ha avuto un impatto fondamentale nel soccorso e sommergibili sinistrati ma che essendo una persona che aveva il vizio di dire quello che pensava apertamente si fece un po troppi nemici purtroppo devo dire io perché forse ci sarebbe stato molto altro andiamo avanti saltiamo la seconda guerra mondiale vediamo che la perdita di battelli all'anno scende in maniera veramente impressionante questo è dovuto sicuramente allo sviluppo delle tecnologie per andare a portare soccorso i battelli sinistrati e ancora di più probabilmente al fatto che i battelli non lavorano più sotto costa ma cominciano a lavorare sempre più in mare aperto siamo in piena guerra fredda e quindi le possibilità di collisioni che sono uno dei maggiori motivi di perdita di battelli è difficile che si verifichi e di quelli che stiamo vedendo qua dentro ce ne sono due britannici uno cileno che hanno subito questa cosa il mezzi di soccorso sono delle tute che avvolgono completamente l'uomo questo in questo caso le tutte sei e sono britanniche esistono anche altre versioni questa però era adottata anche sui battelli italiani e la tuta è l'evoluzione della maschera davis che vediamo sopra a seguito di un incidente che coinvolse il trucco lento un battello britannico affondato la voce del tamigi dove tutto quanto l'equipaggio tranne credo se ricordo bene due persone riuscì a salvarsi ma arrivata in superficie morì per assideramento ecco il motivo per cui è nata quella tuta proprio in gran bretagna è lo stesso periodo in cui nascono i mini sommergibili di soccorso nella fattispecie quello inquadrato e sovietico ma sappiate che quasi tutte le marine dell'epoca che avevano battelli erano dotate di fini sommergibili compresa quella italiana e gli stati uniti che come sempre hanno mezzi per fare opere grandiose hanno anche l'equivalente degli anni settanta della ceara quindi per il progetto azorian nascerà una nave che è in grado di recuperare un sottomarino dell'epoca nella fattispecie doveva essere un poxtrot in realtà quando andò per cercare di recuperarlo il poxtrot si rompe in due per cui l'impresa fallì però ha delle profondità notevoli era era il sommergibili marino sovietico che volevano recuperare dove si pensava ci fossero dei missili nucleari e poi non si sa bene cosa hanno recuperato alla fine sì in realtà ben poco ma perché nel frattempo erano usciti per altre vie a ottenere le informazioni che gli servivano però la global explorer è rimasta attiva per un lungo per il nome della nave che stiamo vedendo rimasta attiva per un lungo periodo ben oltre il progetto azoria è impiegata anche per altre cose arriviamo ai tempi moderni come vedete il tasso di perdita di battelli è sceso veramente tanto e tra l'altro sono battelli che sono noti perché il san juan piuttosto che il curs che sono nomi che a chi ha almeno qualche anno sulle spalle deve averli sentiti nominare nasce proprio a seguito dell'incidente del curs che nel 2000 li smerlo che è una sorta di coordinatore di tutti quanti i servizi che si occupano della soccorsa e sommergibile sinistrato quindi a prescindere dalla nato è totalmente internazionale ci sono in questo periodo dei sistemi che sembrano replicare l'apparecchio gironi mirata sono delle capsule lo useranno particolarmente gli indiani e i sovietici russi sui loro battelli in grado di ospitare la totalità dell'equipaggio e staccarsi dal battello per arrivare poi in superficie chiaramente la tecnologia dei satelliti ci permette di individuare le boe di soccorso che vengono rilasciate in un tempo molto breve e uno degli ultimi sviluppi creati in gran bretagna ma che l'italia è stata tra i primi ad implementare sono gli spaghe quindi la possibilità di veicolare paracadutando sul luogo del sinistro i mezzi di primo soccorso e di necessità che possono essere utili a chi sta evacuando dal battello quindi una tenda con all'interno chiamiamola una mini infermeria in realtà siamo ben lontani dall'infermeria ma all'interno ci sono i mezzi indispensabili c'è personale sommergibilista che capisce quello che sta succedendo sul fondo c'è personale medico in grado di dare assistenza chi sta arrivando adesso cominciamo a entrare un attimino nel vivo dopo questa storia esatto di una mezz'oretta e cominciamo a introdurre i tipi di scafo su cui dobbiamo andare a io aggiungerei una aggiungerei solo una nota abbiamo visto no intentati le migliorie per il recupero dei sommergibili sinistra degli equipaggi mi piace ricordare che proprio tesei e toschi proprio mentre svolgevano quel tipo di attività alla spezia utilizzando i primi respiratori e in quel periodo ebbero le intuizioni per poi lo sviluppo dei dei siluri a lenta corsa e poi lo sviluppo di quelle apparecchiature permise quel tipo di operazioni quindi è proprio così sarà oggetto di almeno una lastrina se non due nella seconda puntata di questa cosa e mi piace ricordare che le stesse persone di cui abbiamo parlato adesso che sono due direttori di macchina di sommergibili durante una sfortunata missione una delle prime dove con i maiali dovevano andare a portare attacco ad alessandria il battello che da trasportatore affondato nel golfo di bomba si posò sul fondo e gli incursori dell'epoca si tuffarono e insegnarono a chi era rimasto imprigionato nella sezione di poppa come fuoriuscire dal sommergibile sinistrato di fatto salvando quella parte di equipaggio che era rimasta imprigionata nella parte rocchiera del battello anche questo poco noto ma è poco noto anche perché siamo in un evento di guerra e qui per cui non viene calcolato nel nel soccorso sommergibile sinistrato torniamo ai nostri battelli esistono tanti tipi di mezzi subacquei semisommergibile sottomarino sommergibile immergibile quindi come vedete quando parlo di battello e già comincio a tirare fuori dei nomi strani bisogna entrare in tematiche particolari un mezzo semisommergibile poteva essere lo Halley quindi è un mezzo che non si immerge completamente mantiene un minimo di riserva di spinta e sfrutta la propria velocità e quindi timoni per portarsi leggermente sott'acqua ma in realtà come si ferma lui ritorna ancorché per una minima parte a galleggiare il sottomarino lo abbiamo già definito è un mezzo che è fatto per rimanere sott'acqua e emergere solamente quando è necessario il sottomarino autonomo è una definizione che è nata all'epoca del sottomarino quando si applicò allo stesso una propulsione endotermica quindi il sottomarino autonomo è un sottomarino quindi nato per navigare sott'acqua che però ha la capacità al suo interno di ricaricare le batterie da questo punto di vista gli Holland erano considerati dei sottomarini autonomi più che dei sommergibili il sommergibile lo abbiamo già visto è un mezzo che è fatto per navigare prevalentemente in superficie ma con capacità di immergersi il sommergibile laurenti è un sommergibile particolare perché in realtà è molto più vicino ad una nave che ha un sommergibile per come viene progettato quindi lui pensa il laurenti a privilegiare la velocità la stabilità in superficie dalle forme allo scafo resistente che non sono forme circolari ma sono forme adattate e poi dopo ci fa un involacro per dargli la forma idrodinamica adatta alla navigazione in superficie lo vedremo dopo pregi e difetti di questa cosa che scomparirà subito dopo la prima guerra mondiale e poi dopo ci sono gli immergibili quindi queste sono delle navi a tutti gli effetti che si possono immergere ci sono rarissimi casi di questo tipo di unità però ancora oggi nell'offshore c'è un'unità per prospezioni che lavora proprio in questo modo anzi lavora in maniera ancora più particolare perché per immergersi non si immerge parallela alla sua linea di galleggiamento ma si mette perpendicolare quindi affonda con la poppa e mantiene vicino alla superficie solamente una piccola parte un mezzo veramente particolare ma comunque gli immergibili praticamente non si usano all'epoca ma ci saranno poi evoluzione della definizione di battelli venivano individuati a seconda del dislocamento da piccola media grande grossiera quindi fino a 300 da 300 e a 800 e oltre i mille e poi c'erano i posamine che erano considerati una categoria a parte la parte più curiosa però è la fantasia con cui i progettisti si sono applicati nell'individuare quale potesse essere lo scafo migliore holland che come abbiamo detto aveva un sottomarino autonomo in testa aveva un scafo semplice quindi un un cilindro che forngeva la faccia da scafo resistente con al di fuori il minimo indispensabile delle sovrastrutture anche club quindi qui siamo in germania questi battelli questa è la sezione di uno dei battelli incrociatori che arriveranno nella seconda parte della prima guerra mondiale pensa a un semplice scafo con qualche sovrastruttura importante sopra gli inglesi invece concepiscono sempre un scafo semplice ma con delle controcarene che oltre a essere impiegato per fornire una maggiore stabilità nella navigazione superficie e da anche un la possibilità di ospitare ad esempio dei combustibili o olio acqua entriamo adesso nella progettistica italiana gli scafi che vi sto proponendo adesso di bernardis laurenti sono lo sviluppo finale di quello che era la loro idea però è così che viene concepito uno scafo di tipo bernardis o tipo laurenti adesso li andiamo a vedere il bernardis aveva concepito un semplice scafo ma che in una parte del suo interno nella parte centrale aveva un ulteriore scafo resistente più interno e tra i due scafi resistenti c'era la parte destinata ai doppi fondi alle casse c'è alle casse resistenti che dovevano imbarcare l'acqua e permettere anche di esaurirla il cavallini l'altro nostro progettista italiano assieme al laurenti allo stesso modo concepisce uno scafo semplice a cui applica un ulteriore scafo all'esterno che però non comprende la totalità quindi non è un doppio scafo totale come ne saranno costruiti alcuni in italia per fare degli esperimenti ma è un doppio scafo parziale definita appunto cavallini ed è tra i battelli che in realtà otterranno i maggiori successi tecnici per come sono stati costruiti nonostante un inizio un po debole l'inizio della guerra il laurenti ve lo già si è scritto aveva lo scafo resistente interno sagomato qui si vede molto bene sotto i motori che lo scafo a quella rientranza a esse che ha ben poco a a che vedere con la resistenza del sommergibile infatti il punto debole dei laurenti era esattamente la quota massima di immersione che alla fine della prima guerra mondiale si vedrà che era assolutamente insufficiente per cui laurenti saranno abbandonati nel giro di una quindicina d'anni all'inizio della seconda guerra mondiale non esistevano già più proprio per questa necessità il doppio scafo totale questo che è uno scafo di un battello americano già seconda guerra mondiale ma tenete presente che con degli adattamenti differenti con doppio scafo totale si intende lo scafo resistente interno e all'esterno un secondo scafo che lo ricopre per 4 quinti o è tangenziale alla parte superiore alla parte inferiore e questo permette di aumentare ulteriormente la resistenza dello scafo resistente questo doppio scafo ovviamente veramente al suo interno di ospitare i liquidi necessari al battello il gasolio piuttosto che olio acqua e ovviamente funziona anche da casse zavorra ci sono anche degli scafi particolari uno degli scafi più famosi è lo scafo adotto ad esempio del tipo 21 che abbiamo visto prima questo in realtà è un tipo 23 ma la concezione era esattamente la stessa e un altro scafo ancora più particolare io esistono i nuovi battelli multiscafo avrei potuto citare il tifone o acula che è famosissimo per la serie di multiscafi collegati un all'altro che all'interno ma pensato fosse più particolare il potris olandese degli anni sessanta che questi tre scafi collegati l'uno all'altro in maniera triangolare guardate che ce ne sono tantissimi altri in italia dice durante il periodo tra le due guerre un battello posamine e progettato dal martinoli aveva una sorta di scafo a infinito cioè a otto ruotato di 90 gradi dove la parte centrale era data dalla resistenza dei tubi delle mine che collegavano i due scafi per darvi un'idea è stata veramente un periodo prolifico di idee certo non tutte andate a buon fine ma che davano l'idea della fioritura di interesse attorno a questo battello torniamo con il fino esatto ve l'ho detto siamo alla fine del 1800 l'italia nonostante non ami sommergibili o sottomarini è costretta a guardare alla francia perché sa che sarà probabilmente il suo avversario e vede che i sommergibili stanno avendo successo stanno avendo delle prestazioni inaspettate per cui il brin alla fine degli anni 80 dell'ottocento si prende l'ingegner pullino che è un uno dei nostri migliori ingegneri ha progettato una serie di corazzate e prima di progettarle aveva costruito da direttore del cantiere altre corazzate tra cui le duilio che sono quelle che ci resero tra le prime marine al mondo negli anni 70 dell'ottocento scusato dell'ottocento in realtà il nostro pullino già generale ne sapeva ben poco per cui prese sotto di sé due ingegneri uno dei due si chiamava laurenti era un giovanissimo ingegnere all'epoca ma la maggior parte dei disegni del delfino al l'ora ancora denominato pullino sono fermati proprio da lui con il primo disegno completo di progetto che fa capire che erano veramente pronti per andare a costruire firmato da laurenti è del 1889 sappiamo che ai primi del 1890 inizia la costruzione durò circa un annetto fecero un certo numero di sperimentazioni sempre nella rada della spezia nel 1895 dopo qualche leggera modifica visto che i risultati non erano stati proprio così eclatanti si decisi di mettere un capannone dice vabbè ho capito che cos'è questo mezzo sottomarino è una cosa che sostanzialmente non ci serve a niente perché sta in mare poche ore è più pericoloso per chi sta a bordo che per il potenziale avversario che si avvicinasse al porto che sottomarino deve difendere ne riparliamo tra qualche anno se sarà necessario continuiamo a guardare i francesi nel 1900 secca dirla un ufficiale della marina ma in realtà sarà l'esercito a capo della chiamiamola della difesa in realtà all'epoca il ministero della guerra era devoluto esclusivamente a ufficiale dell'esercito da cui dipendevano la marina e poi successivamente arriverà anche l'aeronautica e proprio il capo di stato maggiore della difesa chiamiamo così che si interessa ai risultati che stanno ottenendo i francesi con il narval per cui diceva signori noi a che punto siamo e la marina tirata per la giacchetta diceva beh allora riprendiamo le nostre sperimentazioni per cui dopo aver fatto anche la presenza del re nella rada della spezia un certo numero di esercitazioni con l'ultimo aspetto da sottomarino nel 1901 e laurenti se lo riprende in cantiere e dopo qualche anno lo fa uscire dotato anche di un motore diesel scusate benzina quindi endotermico e gli ha dato la forma del sommergibile quindi da sottomarino siamo diventati sommergibili ci saranno ulteriori evoluzioni su questo battello fino ad arrivare alla sua forma finale nel 1911 tra l'altro io avevo una domanda c'è un'osservazione domanda che guardando poi disegni si notano e nella foto a sin in basso a sinistra si vede la presenza di queste due eliche poste verticalmente che venivano usate se non ho capito male come mezzo per facilitare l'immersione giusto non solo anche per muoversi in quota se guardi il mezzo fino al 1895 a poppa non ci sono timoni ci sono solamente a prora e la bassissima velocità che raggiungeva il battello fece indurre indusse il laurenti ad applicare delle eliche per poter muoversi in quota e quindi guadagnare qualche metro in più o in meno non solo per l'immersione tenete presente che dagli studi che abbiamo fatto con l'associazione betason per ricostruire del fino dei pochissimi dati che sono purtroppo giunti fino a noi all'interno per l'assetto quindi per mantenere l'orizzontale c'era semplicemente un peso che scorreva su una rotaia una cosa tra l'altro pericolosissima perché basta perdere il controllo di questo peso e il sommergibile si attua a sua poppa in maniera veramente pericolosa e c'era solamente una cassa per diciamo mantenere più uguale ad esse che probabilmente aveva anche qualche problemino perché l'avevano collegata in un primo tempo con i timoni di prora e poi dopo si vede che successivamente è stata scollegata per cui il meccanismo che faceva sì che il peso rimanesse uguale alla spinta governando anche i timoni non deve aver funzionato molto bene ma tenete presente che io sto criticando il nostro mezzo dell'epoca in realtà all'epoca intanto eravamo tra i primissimi al mondo e c'erano voglio dire idee ben peggiori che stavano circolando pericolose più perché stava portando in giro quei battelli che per il possibile avversario comunque una fase di sperimentazione e poi la sede rischi però attenzione che il nostro mezzo sperimentale è un battello dei record non lo scrivo a caso lì sopra andiamo a vedere il record del nostro piccolo battello che è un vero peccato che la marina non abbia voluto conservare è dovuto al delfino l'invenzione del primo periscopio al mondo come vi dicevo prima nel 1900 dopo che si è visto che le finestrelle sulla torretta erano insufficienti per poter avere la visione a 360 gradi attorno viene installato un cannocchiale della ditta filotecnica che è ritenuto decisamente inefficiente dall'allora comandante che si chiamava borrelli tre di roscello e che era amico del padrone chiamiamolo così delle officine galileo di finenze l'ingegnere martinez per cui mettendosi in chiacchiera davanti un caffè come in italia nascono tantissime cose invece senti viene a vedere il delfino io c'ho questo problema magari tutti che ti occupi di ottica di ottica mi trovi la soluzione in effetti passa pochissimo tempo che viene scattata una fotografia sul tetto delle officine galileo di firenze dove l'ingegnere triulzi che è l'inventore ed è quello con il gilet e la farfallima mostra orgoglioso il prototipo del proprio apparato sul tetto delle officine galileo e in realtà scoppiò una forte polemica in quel periodo perché il laurenti assieme a russo che era un altro ingegnere dei cantieri ricordiamoci che il delfino era appena stato rispolverato dal per poi essere sottoposto a successivi lavori dicevo i russo laurenti vedono la soluzione del triulzi hanno una loro intuizione che è leggermente differente e riescono a brevettarlo prima del triulzi il cleptoscopio russo laurenti che sarà applicato sul delfino in realtà si rileva un fallimento per cui la data che noi assumiamo come interessante è quella del 2 settembre 1901 qualche mese dopo quando il triulzi brevetta il proprio teleops quelli che vedete sono esattamente i disegni del brevetto il dato che successivo che ci porta a vedere come fu un fallimento il creptoscopio e che nel 1902 il creptoscopio viene installato nel 1908 sul delfino il creptoscopio viene sostituito con teleops attenzione perché nello stesso periodo vedremo c'è un'altra azione che ci porta a capire perché è stato sostituito il periscopio di laurenti con quello del triulzi adesso andiamo a vedere l'altro dei record del nostro delfino abbiamo detto che nel 1904 la nostra unità torna in armamento come sommergibile non più come sottomarina scusatemi nel 1904 viene trasferito alla spezia scusatemi dalla spezia a venezia e inizia ad uscire in mare per delle esercitazioni nel 1906 viene trasferito a taranto per fare le manovre con la squadra navale perché aveva ancora fortissimi battelli si cercava di capire che cos'era questo marchi ingegno strano e poi si vedono che nel corso degli anni fino al 1911 ci sono un certo numero di uscite addestrative tutte quante a venezia e questo fa venire qualche dubbio sul motivo per cui questo battello era stato portato a venezia il motivo lo vedremo tra poco e perché a venezia stava nascendo la nostra componente nel 1912 il battello è aggregato all'otaria significa che forma un gruppo sommergibile dove il capo di quel gruppo è il sommergibile otaria e adesso arriviamo al nostro record perché il battello viene destinato alla difesa mobile costiera di venezia quindi non rimane come un mezzo addestrativo dentro la base ma viene impiegato in guerra non solo nel 15 nel 16 attua missioni di guerra certo nel suo piccolo davanti a venezia ma come vedremo davanti a venezia sarà fondato uno dei nostri battelli per cui non era tanto peregrina l'idea di mettere un battello lì davanti in prima linea a fronteggiare gli altri per permettere agli altri battelli di andare in guerra diventa unità sede del comando della squadriglia come era l'otaria prima altre missioni di guerra nel 18 a seguito di gaporetto viene trasferito da venezia porto corsini e nel 1919 finita la guerra viene smantellato con tutto il pianto che ci può essere di una persona che appassionata di storia che avrebbe voluto vedere musealizzato per il battello però in realtà un record ce l'ha portato a casa perché è l'unico battello al mondo che nasce sottomarino diventa sommergibile combatte in prima linea riporta a casa la pellace e arriva alla fine della prima guerra mondiale non è da poco per un mezzo sperimentale che era stato giudicato come assolutamente insufficiente appena certo poi in un teatro di guerra insomma che non era esattamente tranquillo quindi esatto questo qui è il motivo per cui il nostro delfino era stato trasferito a venezia l'ingegner laurenti che è ancora in marina in quel periodo nel 1903 ha avuto l'incarico di sviluppare su quello che ha imparato dal delfino i nuovi battelli ne deve costruire cinque fa i suoi disegni comincia a mettere giù anche le sue prime filosofie non siamo ancora al vero scafo laurenti ma si incomincia a intravedere qualche cosa della sua filosofia e il delfino è a venezia proprio per addestrare gli equipaggi che dovranno imbarcare su questi battelli nel 1903 il glauco che è il capo classe viene impostato sugli scali per cui per chi è già stato a visitare l'arsenale di venezia riconoscerà in questo scalo quello dove oggi è stato musealizzato il sommergibile d'andolo e a seguire nascono tutti quanti gli altri battelli fino ad arrivare all'ultimo il tricheco che viene consegnato nel 1909 come vedete stiamo parlando ancora di un battello da piccola crociera come veniva definito nell'epoca le dimensioni sono risibili parliamo di un battello di 250 tonnellate per meno di 40 metri di lunghezza ha ancora i motori a benzina quindi estremamente pericolosi e con velocità che sono e autonomie che sono decisamente scarse il 3 e 2 tubi lancia cellule dovuto al fatto che il glauco aveva tre tubi di lancio ma poi si decise sugli altri battelli di metterne solamente due fate attenzione a questa fotografia perché la ritroveremo successivamente con quell'accidente di bandierina sopra il periscopio venezia a differenza di la spezia io personalmente la ritengo la colla del sommergibilismo italiano mentre invece la spezia la considero come l'utero del sommergibilismo italiano perché perché alla spezia è nato il delfino è sicuramente stato sviluppato ma finché non è diventato sommergibile non esisteva nient'altro quando è diventato sommergibile è andato a venezia a venezia sono stati costruiti i primi battelli da laurenti subito dopo saranno costruiti i primi battelli di tipo bernardi e subito dopo ancora saranno costruiti i primi due battelli della classe bullino quindi la totalità del sapere ingegnerisco dei sommergibili nasce a venezia prima della prima guerra mondiale da qui il fatto che venezia più che la spezia io la ritengo sia la culla del nostro sommergibilismo andiamo avanti perché il genio di laurenti credetemi e giusto ha fatto l'ufficio storico a pubblicare un bellissimo libro su questo ingegnere il genio di laurenti dicevo va un minimo approfondito prima di andare a vedere la storia nel 1907 anzi nel 1906 il laurenti si licenzia dalla marina militare e viene assunto come ingegnere ai cantieri otto del muggiano viene incaricato di costruire ancora per conto della marina ma lo sta costruendo al muggiano il sommergibile foca il foca è il primo battello che comincia ad avere veramente la forma di un battello laurenti non solo ma è anche il primo battello che comincia a suscitare l'interesse all'estero perché sul foca cominciano a nascere i primi progetti per l'estero la classe che era successo usciterà scusatemi il più grande interesse è invece la classe medusa su questo progetto ancorché adattato in varie maniere vengono adattati i motori diesel per la prima volta ed è fondamentale perché la pericolosità dei motori a benzina aveva già creato molti incidenti in tutte le marine del mondo ed è su questa classe di battelli che svezia danimarca stagno uniti gran bretagna russia giappone e portogallo costruiranno o acquisteranno i loro primi battelli e possiamo tranquillamente definire il medusa come l'ultimo dei battelli sperimentali e il primo dei battelli operativi siamo ancora lontano come no no certo annuivo anni da una da un battello vero affidabile serio come vedremo tra qualche anno in piena guerra però tutti i concetti del sommergibile laurenti qua dentro ci sono il sommergibile laurenti aveva un'altra particolarità che la parte superiore del dello scafo leggero quindi dello scafo esterno era una libera circolazione con l'esterno cioè significa che quando era in immersione quella parte era l'acqua del mare poteva entrare uscire tranquillamente quando il battello emergeva veniva in superficie dei portelli venivano chiusi infatti ci sono molte fotografie dove si vedono questi buchi neri rettangolari sulla fiancata sono esattamente le prese a mare che permettono la libera circolazione o meno chiuse queste prese quella diventava una cassa che garantiva riserva di spinta al sommergibile quindi dandogli ulteriore stabilità e sicurezza in super fine la navigazione superficie sempre al cantiere più o meno sulla base del medusa la marina russa ordinerà un battello sviatoi giorgi è il nome russo ma in realtà con l'arrivo della prima guerra mondiale sarà inglobato nella marina italiana col nome di argonauta e anche la marina britannica ma lei si ricostruisce in casa prenderà su licenza il progetto della classe medusa e costruirà tre battelli della classe da loro s impiegherà pochissimo perché poi dopo ritorneranno in italia vedremo perché sul idea di laurenti ma con un dislocamento estremamente maggiore nasce anche il balilla per la marina germanica attenzione sto parlando della marina germanica quella che in quel momento stava sviluppando l'apice della tecnologia e della tattica strategia di impiego dei battelli questo nome che abbiamo visto prima era già stato costruito per dna una esatto però uno dei pochi battelli non tedeschi che sarà costruito nell'epoca era proprio il balilla ovviamente aveva un altro nome per la marina germanica non avrà non lo riuscirà mai a prendere perché allo scopo della prima guerra mondiale non farà arrivare il battello alla marina del kaiser e si rivelerà in realtà buon battello sulla stessa classe simile migliorato nasceranno altri due battelli che verrà denominata classe pacinotti ma è sintomatico il fatto che la germania avesse come unico interlocutore quando si parlava di battelli l'italia in realtà anche quando decise di passare dai motori a benzina ai motori diesel fece quella che definì una gara internazionale a cui parteciparono quattro ditte tre tedesche e l'italiana fiat vinsero due ditte tedesche poi in realtà una di quelle solamente ebbe l'appalto però la dice lunga sul fatto della sul credito che aveva l'italia in quel momento in germania talia continua a costruire questa volta siamo a battare la parola scusa qual era il l'interesse per il balilla come veniva fatto lo scafo oppure altre installazioni allora non ci sono dei dati precisi una parte di questo è sicuramente nello scambio con l'atropo nello stesso periodo in realtà anticipato di poco la marina italiana aveva acquistato un battello della germania uno dei pochissimi battelli acquistati prima della guerra mondiale e per cui io immagino che ci sia stato uno scambio di di vedute a livello politico quando ancora esisteva la triplice alleanza nel quale dice senti io do un battello a te tu dai un battello a me vediamo di capire come muoverci cerchiamo di sviluppare assieme quello che potrebbe essere il futuro chiaro la germania a costruire un battello adatto alle nostre esigenze l'atropo era un battello da media crociera e noi costruimmo un battello da grande crociera per la germania che si stava preparando a costruire gli incrociatori sommergibili stava concependo proprio in quel periodo e non è escluso che dai disegni del balilla che ovviamente erano andati in germania non si è stata presa ispirazione per costruire gli ucroyzer ovvero i battelli incrociatori che si che vorranno impiegati dalla seconda metà della prima guerra mondiale chiarito è un aspetto molto interessante direi sconosciuto anche questa cosa non la conoscevo i barbarigo sono battelli della grande crociera che non faranno tempo a partecipare alla guerra parliamo della grande guerra ovviamente però sono sicuramente una fatta interessante perché sono i battelli più grandi costruiti durante la prima guerra mondiale e soprattutto sono l'unica testimonianza di quell'epoca rimata arrivata ai giorni nostri perché la parte centrale di uno di questi battelli del provana per la precisione è ancora conservata vicino alla sede dell'anmi nel nella città di torino nel parco del valentino per intenderci per chi avesse voglia di andarla visitare ed è visitabile basta chiederlo ai vecchi marinai dell'anmi che sono in sede arriviamo alla apice dello sviluppo del genio di laurenti la classe f la classe f sarà costruita in 21 in realtà erano stati ordinati 25 esemplari sono stati esplicitamente voluti dall'allora capo della marina l'ammiraglio tondi revel una persona come poche ne ha avute la marina militare va detto questo è rimasto il l'ispiratore e il punto di riferimento per gli ammiragli fino a che non è scomparso e forse se fosse rimasto in vita durante la seconda guerra mondiale avrebbe potuto dare un ulteriore apporto perché già stava intravedendo molto del futuro morì 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 poco dopo la fine del conflitto l'abbiamo ricordato nella live sul 9 settembre che nella notte tra l'otto e il 9 settembre il suo il suo consiglio fu gioco un ruolo importante non nelle decisioni del esatto l'amiraglio de curten e poi di sanzoni eccetera questi battelli costruiti in così grande numero erano ovviamente l'ideale per una guerra in adriatico e quindi per questo spinti molto di più di barbarigo dei pacinotti o di altri battelli del bernardis e piuttosto che altri tipi perché quelli che potevano meglio ottenere e combattere questa strana guerra che si stava combattendo in adriatico erano proprio loro sulla base della classe F anche la Spagna e il Brasile l'abbiamo detto prima per il Brasile acquisiranno i loro i loro primi battelli una piccola curiosità lo sapete i sommergibilisti hanno il loro stemma per distinguersi da mettere sulla divisa l'Italia ha un delfino il Brasile ha come effigie un sommergibile della classe F non è l'unica marina al mondo che ha un battello italiano come effigie perché la marina argentina ha dei battelli costruiti ai cantieri Tosi di Taranto negli anni 30 simili grossomodo ai nostri battelli della classe Rameli e che sono i loro primi battelli che chiamavano affettuosamente i tarantini lo starantinos ma questa è storia della seconda lastrina ritorniamo a noi se no la tiriamo veramente troppo per le lunghe e non vorrei farlo la classe F era un battello da piccola procedura 320 tonnellate 46 metri di lunghezza ma aveva finalmente dei motori diesel affidabili aveva una velocità in immersione decisamente sufficiente per quello che dovevano fare e l'affidabilità sia del cannone che dei sudori cominciava a essere come devo dire interessante per quello che doveva svolgere tant'è che ancorché come mezzo addestrativi perché alla fine della guerra si vide che 40 metri di quota massima era veramente troppo poco ma rimasero comunque in servizio per un lungo periodo e uno di essi andrò dopo perduto e durante un'esercitazione. La quota periscopica di questi battelli quanto era? Allora non lo so ma possiamo provare ad arrivarci velocemente perché su una larghezza di circa 5 metri la vela ne aveva sicuramente almeno un altro paio 5-7 si aggirava tra gli 8 e 10 metri al massimo stavo dicendo gli altri due progettisti li abbiamo già accennato prima furono bernardis e cavallini anche per loro come per i laurenti le prime opere non avevano ancora tutto il succo della loro ispirazione il nautilus concepito a venezia era un semplice scafo nude crudo peraltro molto ancora come devo dire succube degli insegnamenti del laurenti che in quel momento era l'apice della scienza della tecnologia ingegneristica per sommergibili in italia nel 16 verranno impostati sei batteri della classe n non avranno un risultato eccezionale però la marina italiana continuerà lo stesso sulla strada del bernardis anche nel dopoguerra al punto che bernardis furono alcuni dei nostri migliori battelli durante la seconda guerra mondiale e anche tra i più famosi ma ci arriveremo come detto dopo battelli strani saranno anche i secondi due quindi secondo il terzo della classe x ovvero i battelli posamine l'x1 in realtà era un battello austro-ungarico già tedesco che era affondato mentre posava delle mine davanti a taranto è stato recuperato il bernardis ci ha messo mano ha cercato di comprendere il funzionamento ha rivisto il progetto e nel giro di pochissimo tempo ha varato altri due battelli posamine che con i loro ordigni riusciranno ad ottenere anche dei successi durante la prima guerra mondiale il cavallini lo stavo dicendo concepisce i propri battelli anche lui in qualche modo influenzato dal laurenti a venezia con i primi due battelli della classe pullino che a differenza del bernardi avranno una riuscita veramente ottima i risultati quantomeno diciamo di cinematica e di navigazione furono ottimi a cui seguirono i sei battelli della classe bica erano battelli da grande crociera quindi erano dei battelli veramente molto grandi che arriveranno alla fine della guerra per cui in realtà non non effettueranno il conflitto però anche in questo caso i report i resoconti del funzionamento di questi battelli furono abbastanza positivi c'è un'ultima parte di battelli che va considerata e sono i battelli costieri in realtà a essere sinceri prima ancora di questi battelli a venezia erano stati costruiti altri due battelli ancora più piccoli propulsione esclusivamente elettrica li chiamavano alfa e beta se hanno visto il mare due volte sarà già tanto furono scartati praticamente subito e guardate che anche i battelli a e b la differenza tra il primo e secondo era che il secondo aveva anche era aveva la propulsione la doppia propulsione diesel elettrica mentre prima aveva la propulsione esclusivamente elettrica non ottennero dei grandi risultati nel motivo è in sito nelle loro dimensioni perché un battello così piccolo metterlo in mare basta un minimo di mare appena mosso neanche mosso agitato che gli preclude praticamente qualsiasi azione per cui diventa un mezzo che si può impiegare pochissimo tempo all'anno e visto che doveva servire per la difesa costiera così era stato ipotizzato chiaramente era un mezzo inservibile in realtà mi piace citarli perché entrambe le due classi saranno oggetto di approfonditi studi da parte di diversi ingegneri non ne ho i nomi di questi ingegneri ma li sto ancora cercando e l'adattamento era stato fatto per andare a forzare il porto di pola quindi che fosse stato trasportato da un altro sommergibile come doveva essere per il classe a o che fosse trascinato dalla torpediniera e poi dopo dovesse scavalcare le ostruzioni con dei cingoli un po come il grillo come doveva essere per il b in qualche modo stanno nascendo anche sui sommergibili dei mezzi insidiosi particolari come vedete ci sono tutti i prodomi di quello che succederà poi 30 anni dopo nella seconda guerra mondiale mi c'è guardando la e poi sentendo e leggendo no delle sue caratteristiche mi viene un po anche in mente noi battelli ciano del che dovevano fungere un po da boe galleggianti per la difesa di punti particolari ci vedo un po un collegamento con i classi hanno esatto è un errore che è stato parzialmente rifatto attenzione lo vedremo anche questo la prossima puntata perché i cia e i cd furono iniziativa di caproni non furono un ordine della marina militare per cui funziona al contrario caproni li propose alla marina e la marina dopo qualche resistenza alla fine li acquistò ma i risultati per quello che erano stato concepiti ovvero fare la boa che attendeva il nemico a largo dei porti anche questa volta fu praticamente nulla in realtà impiegati in mezzi in modalità differenti il ca come mezzo insidioso per attaccare il porto di new york trasportato lì dal da vinci i cb impiegati in in bacini ristretti come poteva essere il mar nero otterrà i loro successi o quantomeno erano in potenza di avere i loro successi perché il cia non farà tempo a partecipare a questa nazione stavo dicendo ci sono stante anche delle costruzioni estere però attenzione perché l'unica vera costruzione estera prima della prima guerra mondiale è stato l'atropo di cui stavo parlando prima che doveva essere in qualche modo lo scambio con il balilla con la marina tedesca un atopo che ci avrebbe potuto insegnare molto perché aveva già le caratteristiche ad esempio dell'u9 che tanti danni fece alla marina britannica ma nel teatro adriatico era limitato ed è per questo che poi la marina l'ha un pochettino sottovalutato nonostante sia proprio al lato proprio ha debitato il primo accreditato scusate il primo successo della guerra e durante la guerra invece quando la marina si rese conto che la propria componente sommergibilistica era estremamente sottodotata sia in termini di numeri che in termini di capacità rispetto a quello che le serviva si guardò intorno e cominciò a ordinare all'estero per cui ordinò sei battelli della classe h quindi di tipo holland che vennero costruiti in canada ma erano uguali identici a quelli statunitensi parlò con la marina britannica e visto che la classe s era praticamente identica alla nostra classe argonauta leggermente migliorata gli disse per favore ridammeli che ne ho bisogno e loro furono più contenti di ridarceli perché avevano qualche problemino continuo a dire secondo me per incapacità britannica proprio come gli exploder durante la seconda guerra mondiale e ci diedero bontà loro anche quattro cratelli questa volta esclusivamente di costruzione di quella britannica della classe w se ne sono liberati completamente anche questo fa pensare molto di che cosa si sono tolti dei piedi probabilmente come in tutte le marine in tu scusate in tutti i conflitti le nazioni tendono a liberarsi dei mezzi che non gli servono ma tentando di fare bella figura mantenendosi ovviamente in casa quelli che possono servirgli di più l'ultimo battello di costruzione estera ma sui generis perché non era certamente voluto è l'x1 battello mosamine affondato davanti alle coste di taranto questo che è un bellissimo schema è stato compilato con l'associazione betasomo ormai qualche anno fa quando incominciamo a allestire una mostra sui sommergibili italiani ma rende molto bene quello che è lo sviluppo della nostra componente in termini di tecnologia l'ho rifatto allargando i nomi perché ovviamente era un tabellone di tre metri per un metro e ottanta quindi per altre dimensioni e si intravede come dal delfino il pollino abbia sviluppato sia scusate il laurenti sia passato quasi subito passando da grau de foca fino al medusa alla sua tecnologia del doppio scafo adattato i cavallini che ebbero due modalità differenti che non sono collegati tra di loro ma che ebbero entrambi i buoni risultati il pollino in guerra il micca a guerra ormai completata e il bernardis con nautilus che evolui nella classe n ed x successivamente sono riportati anche i battelli stranieri che sono oa singolo oa doppio scafo a seconda delle diciamo dei tipi di battelli ma non riscuoteranno successo all'interno della nostra marina se non per un unico esemplare e comunque rimarrà fine all'estre fine a se stesso nelle costruzioni del dopoguerra bene stiamo arrivando in prossimità della prima guerra mondiale il primo momento in cui in italia si comincia a pensare i sommergibili è la guerra di totoro turca lo sappiamo c'è stata un'azione anche se non ha avuto buon fine per forzare i dardanelli con delle torpediniere enrico millo avrebbe dovuto finalizzare questa impresa che è rimasta comunque storica per un verso per l'altro ma in realtà ai moni di savoia osta se ricordo bene comunque sia uno dei duchi d'aosta propose di attaccare i dardanelli proprio con la classe glauco che in quel momento era disponibile in realtà non se ne fece nulla e i bottelli non arrivarono mai nei dardanelli erano davvero poco affidabili con quel motore a benzina però intanto si incomincia a pensare che i sommergibili possono avere anche una modalità offensiva di impieghi e non solamente difensiva come era stata concepita fino a quel momento fa pensare come fino al 1913 nessuno avesse impostato un regolamento per impiegare i battelli fa ancora più pensare come questo regolamento regolasse scusate il gioco di parole l'impiego dei battelli in esercitazione e tra le regole più strane che vengono imposte c'è che il sommergibile quando si deve immergere deve avere una bandierina che deve sempre rimanere esposta sopra la superficie del mare per far vedere dove c'è questa cosa però la scusante è che la guerra non c'è ancora stata e che i sommergibili ancora non sappiamo veramente a cosa possono servire gli unici che hanno le idee chiare nel 1913 sono i tedeschi è stato già cominciato a costruire in serie e su un solo tipo di battello quella che sarà la loro flotta sommergibilistica con una strategia di impiego ben chiara la nostra componente non è ancora pronta purtroppo per entrare in guerra l'ho detto prima manca autonomia velocità manca l'affidabilità sia dei mezzi sia delle armi però in questo mentre c'è una persona che emerge che torna ad emergere un'altra volta perché ne sentiremo parlare tantissime altre volte il belloni è un ufficiale di stato maggiore o di coperta della marina militare italiana a causa di problemi di salute alludito per la precisione sarà riformato cioè non può più stare nella forza armata sarà assunto dai cantieri fiatoto di la spezia quindi cantieri del mugiano che costruiscono i sommergibili per fare da comandante di cantiere di questi battelli si è lo stesso belloni che abbiamo visto prima della vasca belloni ed è lo stesso belloni che addestrerà i nostri consori che tante invenzioni avrà per i nostri consori durante il prossimo trentennio fatto sta che siamo ancora nel 1914 la prima guerra mondiale è scoppiata ma non ancora per l'italia l'italia è suddivisa tra chi vuole intervenire chi vuole rimanersene neutrale il belloni fa parte degli interventisti e per cercare in qualche modo di smuovere l'opinione pubblica di dare un impulso all'ingresso di quella guerra che si sta configurando in quel periodo come una nuova guerra di indipendenza per portare a casa i territori irredenti che ancora non sono tornati quindi istria dal mazio e trentino rubo insommergibile lui ha il comando da cantiere dello sviatoi giorgi e cerca di portarlo a un'altra marina nella fattispecie esce dal cantiere per quella che sembra essere una esercitazione di prova e poi dirige verso la corsica mettendosi a disposizione della francia per combattere la guerra assieme a loro con questo battello è chiaro che politicamente una mossa del genere è veramente sconveniente tra l'altro l'italia è ancora legata alla germania e all'austria angheria è un legame scusate salute ormai davvero davvero flebile tenete presente che tanto l'italia che l'austria angheria aveva i piani pronti per invadere l'avversario già dai primi del 1900 e questa la dice lunga su quanto di amicizia ci fosse tra i due stati confinanti per cui anche questo che viene riportato come un tradimento dell'italia in realtà era una cosa che era già stata ampiamente ipotizzata da ampe le parti è stata solamente come dire governata politicamente per dare discredito all'italia sia all'inizio della guerra sia anche in periodi anche molto successivi a quella prima guerra mondiale si dove dimmi qualcosa no no comunque la guerra qui la guerra inizia inizia molto vicino all'italia come sappiamo ea corfu va a prendere posizione la marina francese come si vede da questa fotografia con torpediniere con sommergibili in realtà c'è anche molto altro quello che ci interessa sapere visto che stiamo parlando di battelli e proprio che i battelli francesi che come gli italiani sono ancora come dire dei ragazzi è una definizione di guido milanesi di un volumetto molto bello del dopoguerra che le definisce come dei ragazzi che sono ancora accompagnati per mano dalla mamma ed entrano in guerra e di punto in bianco si trovano a fare i guerriglieri era un poeta veramente fatto sta che come dicevo prima parte tedeschi e gli austro-ungarici che stanno usando i battelli tedeschi nessun altro aveva realmente idea di quale fosse la potenzialità di questi di questa nuova arma come non c'era l'idea di quale potesse essere la potenzialità dell'arma aerea che sta crescendo contemporaneamente questo è il campo di battaglia il resto mediterraneo sarà impiegato pochissimo e solamente verso la fine della guerra il grosso si sta sviluppando qui in questi mari tra quella che allora era l'austria ungheria e il montenegro l'albania da una parte e l'italia da quell'altra come vedete le basi austriache e i porti austriaci erano tutti quanti protetti dalle isole da un litorale roccioso che non permetteva un facile accesso i porti erano protetti da delle insenature pertanto era anche difficile poter visualizzare quello che c'era all'interno del porto al contrario se guardiamo la costa italiana conosciamo benissimo le nostre spiagge e per chi deve portare offesa a queste cose è letteralmente una mamma è una costa completamente indifesa che parte da grado che era grosso modo il primo posto italiano e arriva fino giù a santa maria di leuca senza avere praticamente una possibilità di difesa che una tant'è che da onde revel che in quel momento ancorché non sempre durante la prima guerra mondiale sarà il capo della nostra marina si inventerà ogni marchi ingegno per contrastare la modalità di guerra austro-ungarica che era il mordi e fuggi quindi vedremo i treni armati vedremo sommergibili particolari le mignatte gli aerei e gli idrovolanti ovviamente ci saranno gli altri mezzi di grillo prima ma che sono la quintessenza del pensiero suo allora vi ho citato prima guido milanesi quello che è una delle frasi più belle di uno dei suoi racconti mi piace e permettetemi di leggervela per intero scafi creati per la difesa e per proteggere coste e porti furono tramutati per pure energia morale in scafi offensivi e cioè chiamati a portare la guerra nelle acque nemiche percorrendo l'adriatico in tutti i sensi fino ad esaurire l'ultima goccia sostanza vitale che da loro moto e facoltà di offendere in questa bellissima frase poetica è riassunto tutto il problema sommergibilistico italiano ovvero mezzi che erano stati concepiti per la difesa dei porti che vengono impiegati improvvisamente per missioni di 4 5 6 giorni di più non erano in grado di fare a largo davanti alle coste nemiche per portare l'offesa cosa cui non erano assolutamente preparati tecnicamente e addestrati a portarlo entriamo in guerra nel 1915 già lo sappiamo una delle prime cose che vengono fatte è la modifica delle norme di attacco ai mercantili prima si fa per dire perché viene applicata nel 1916 questo perché fino al 1916 i nostri battelli erano obbligati ad emergere vicino al mercantile accertarsi che fosse veramente belligerante fare in modo che si mettessero in salvo le persone che erano a bordo e poi affondarlo non solo se c'era un qualsiasi dubbio non poteva essere affondato è chiaro che avesse avuto anche solamente una mitraglietta chi era a bordo prendeva e poteva fare un buco nello scappo del sommergibile mettendolo gravemente in difficoltà per questo ancorché con un attimo di ritardo ma vedremo che non siamo gli unici le modifiche alle norme di attacco dei mercantili verranno modificate un altro tassello fondamentale è la nascita dell'ispettorato dei sommergibili dell'aviazione anche questo è un'opera di trombie levelle che mette direttamente le dipendenze del capo di stato maggiore della marina queste due armi e quindi l'impiego immediato è la stessa modalità che verrà applicata durante la seconda guerra mondiale per gli incursori e che permette di agire in maniera immediata ad una azione quando attività di intelligence permette di capire che c'è la possibilità di ottenere un successo o viceversa di reagire ad un'azione che sta per essere posta in essere dal nemico e quindi è una come dire una modalità fondamentale che purtroppo sarà abbandonato del tempo purtroppo va detto la prima guerra mondiale non comincia bene per la nostra flotta di sommergibili già il 10 giugno il medusa viene affondato dall'11 davanti a venezia vi ricordate che vi ho detto che c'era stato un battello affondato davanti a venezia e che quindi il delfino non era poi così nella retroguardia anzi il 5 agosto viene affondato dall'u5 il nostro nereide davanti a pelagosa tra l'altro viene sorpreso mentre era in passaggio di consegne con l'altro sommergibile e inseguirà il battello che l'ha attaccato ma non riuscirà a spuntarla mi volevo ricordare questa cosa perché era a pelagosa perché era stato schierato lì per proteggere dal delle incursioni delle flottiglie di cattaro austro-ungariche il presidio italiano che aveva occupato quella cosa stato agli ordini del dell'allora sottottenente di vascello alberto da zara quindi esattamente il contesto era era questo proprio quello una pelagosa peraltro appena appena conquistata il 17 agosto si perde l'oelea su una mina davanti a venezia e c'è un solo superstite di questa di questa sciugura e peraltro che rimarrà famoso a lungo perché sarà chiamato spesso a parlare ea condividere le sue esperienze di guerra finalmente il 4 giugno del 1916 arriva il primo successo attenzione non prendetelo come un successo risibile è vero che 1122 tonnellate di dislocamento sono una pinzillacchera ma tenete presente che tra le isole della croazia oggi dell'impero austro-ungarico all'epoca era questo il mercantino medio che stava girando non c'erano grandi piroscafi c'erano i piroscafetti che facevano capotaggio che portavano le merci da una parte all'altra magari recuperate di contrabbando da dal montenegro che nel frattempo stava più o meno diventando loro dopo l'attacco e la nostra evacuazione dell'esercito per cui era nella media delle cose che potevano essere affondate in un momento in cui il traffico mercantile militare era pressoché nullo da parte dell'austria ingheria cosa che invece per noi non era assolutamente perché essendo privi di materie prime per noi il traffico mercantile era e ad è ancora oggi fondamentale il 14 luglio del 16 perdiamo il balilla che viene sorpreso in superficie mentre sta ricaricando le sta ricaricando le batterie da un certo numero di torpediniere ingaggia eroicamente il combattimento ma purtroppo avrà la peggio purtroppo ulteriormente anche il fuoco amico non ci aiuta perché il guglielmotte il 10 marcio del 17 viene affondato da un caccia torpediniere britannico a largo della capraia il 4 luglio del 17 il pullino danneggia il piroscapo san marco ma come noto a tutti il pullino è famoso per ben altra tragedia aveva imbarcato a bordo il trenti de vascello nicolò sambo sotto cui si nascondeva l'irredento nazario sauro che era un pilota estremamente attaccato ai valori italiani tant'è che venne in italia ancora prima della guerra pur di schierarsi a fianco dell'italia e poterla di aiutare dicevo il pullino andò ad arenarsi sullo scoglio della galiola e l'equipaggio abbandonare il battello cercò di porsi in salvo fu catturato e sauro non riuscì a salvarsi fu riconosciuto senza entrare ulteriormente nella storia e impiccato come traditore potremmo dire come giusto che sia da parte degli austriaci ma ricordiamoci che per noi è un italiano convinto dei propri valori e una figura di riferimento in questo momento ovvero nel momento in cui il pullino è ancora arenato e non sta ancora affondando ma sta lentamente scivolando nei fondali dello scoglio della galiola e due sommergibili italiani salpano per cercare di riportare a casa l'unità o quantomeno di portare offesa all'avversario che sta cercando di fare la stessa cosa al contrario e in questo momento largo e salpa nostri due sommergibili riusciranno a danneggiare uno dei cacciato pedinieri che sono in zona appunto il magnet danneggiandolo al punto da impedirgli di conflitto fino al termine dello stesso una mina danneggerà anzi ci farà perdere il battello w4 il 4 agosto del 17 mentre una gloriosa azione si potrebbe dire 16 novembre del 17 coinvolgerà due nostri batteri della classe f che un po come faranno i mass di rizzo e a onzo e pochi mesi dopo riusciranno a contrastare l'uscita in mare di una forza rilevante austriaca dai porti di pola e quindi in qualche modo continuando a perseverare nel blocco della flotta e nell'affamare i paesi del del blocco centrale che erano in quel periodo veramente in di forte difficoltà continuiamo l'f7 il nostro affondatore della prima guerra mondiale lo so anche qui suona abbastanza risibile però è l'unico che è riuscito ad affondare almeno due navi tra l'altro al comando dell'allora trenti di vasceglio mario falangola che sarà capo di sommergibili durante la seconda guerra mondiale affonda due piroscafi come si vede a largo delle isolette croate nello stesso periodo perdiamo l'h5 anche questo purtroppo per fuoco amico dall'hb1 britannico il f12 l'unico successo di un battello contro un altro battello da parte italiana affonda luventi il 4 luglio del 18 e con questo finiscono i nostri successi direttamente dai battelli ma nello stesso periodo ci sono delle altre azioni che sono in corso abbiamo già visto prima i battelli della classe b che a mo di grillo avrebbero dovuto saltare le ostruzioni ma il sommergibile argo che vedete più sopra è un'altra delle idee fantastiche del belloni praticamente con quella sorta di catenaria che si intravede che parte da parlare da poppa con un meccanismo particolare largo avrebbe dovuto saltare le ostruzioni entrare all'interno del porto di pola e portare l'offesa nel porto avversario non solo lo stesso argo era stato dotato di una camera stagna quello che oggi chiamiamo lock in lock out per intenderci che permetteva ai palombari di uscire sott'acqua e quindi ad andare ad operare sul fondale marino per portare delle degli ordini bellici piuttosto che liberare dalle reti o da eventuali problematiche il transito dell'unità guardate che era veramente a buon punto l'unità che avrebbe dovuto salpare dal porto di porto corsini quindi da ravenna nel 17 ma un avaria ai motori termici gli impedì di salpare e fece abortire l'impresa senza più poter essere realizzata fino alla fine del conflitto è un vero peccato perché sembra a detta di chi ci capisce molto più di me che le possibilità di successo potessero essere veramente notevoli chiudo avrebbe avrebbe costituito un precedente interessante per continuare cioè sviluppare prima quel quel modo di operare con degli operatori da un sommergibile già l'ultima cosa che vado a citare è l'attacco della mignatta come sapete l'entesignano del siluro alentacorso maniale era un siluro che però era accompagnato a braccia da due operatori fu accompagnato in zona da una torpediniera ma fu il primo successo di un incursore durante una guerra è un successo che è poco come dire valorizzato perché in realtà avvenne a pace ormai quasi ciclata quando la corazzata vi ripus uniti sera in realtà battente bandiera jugoslava e non più bandiera austro-ungarica a noi però in questo momento interessa il valore bellico dell'impresa non tanto il valore politico il valore bellico è fondamentale perché da qui sta partendo l'ispirazione che porterà toschi e tesei a sviluppare il sudoria lenta corsa la guerra finisce ma per l'italia ancorché sia una vittoria non finisce bene lo sappiamo siamo entrati in guerra pensando che l'adriatico sarebbe diventato un golfo interno e ne usciamo con la nascita della jugoslavia assieme a altre mutilazioni rispetto al a quanto era stato corcondato all'inizio della guerra che però era ovviamente stato mandato alle ortiche dall'ingresso degli stati uniti nel conflitto questa viene chiamata la vittoria mutilata assieme alla crisi economica assieme al partito comunista che in quel momento è particolarmente attivo e sta stimolando i fascinorosi a portare a un capovolgimento del governo a similitudine di quando già era venuto in russia l'italia in quel momento è soggetta a una forte crisi veramente un periodo molto delicato per l'italia in questo momento si va a inserire anche l'impresa di fiume lo sappiamo i legionari di dannunzio che varcano il confine si vanno ad appropriare della città e molti dell'esercito e molti anche della marina ancorché in modalità differenti lo seguiranno creando questa città libera che sarà una spiera nel fianco sia per l'italia che per gli alleati dell'italia durante il primo conflitto mondiale non entro nei dettagli di come si concluderà questa impresa per il dannunzio perché è motivo della seconda presentazione quello che ci interessa però in questo periodo particolare sono che i turbamenti politici ed economici della vittoria mutilata in marina avranno poco seguito la marina e si dimostra rigia al dovere quindi a differenza dell'altra forza armata in quel momento presente ovvero l'esercito non ci sono dei disordini all'interno della forza armata dei sovvertimenti e è bello vedere come all'interno della marina viene particolarmente elogiata la componente dei sommergibilisti al punto che perfino il ministro della marina il capo di stato maggiore della marina in quel periodo si esprimono in termini estusiastici portando ad esempio i sommergibilisti c'è da dire che non è un caso se nasce qualcosa del genere il sommergibile è un mezzo particolare molto pericoloso molto scomodo i ragazzi non a caso li ho chiamati ragazzi sono tutti quanti giovani a bordo il più vecchio ha ancora sui toti non aveva più di 35 anni ed era il vecchio chi ha visto molto 96 sa che il comandante di quel battello aveva circa la stessa età e anche lui veniva chiamato il vecchio su quel battello sono giovani portati a fare un mestiere difficile che si legano tantissimo tra di loro lo spirito di corpo diventa qualcosa di imprescindibile un po come succede anche nei mass ed è questo che porta i sommergibilisti ad essere particolarmente attenti alle allo stato e alla difesa dello stato perché sanno di essere una parte di questo stato quindi sono molto uniti nel difenderlo una cosa che va avanti tutt'oggi quel libro che citavo prima tra l'altro l'ultimo che ho scritto quel libro intervista sulla vita a bordo dei battelli durante la navigazione la dice ancora lunga su quale sia lo spirito di corpo qual era a bordo dei toti perché il libro è ambientato a bordo dei toti ma quale sia ancora oggi a bordo dei nostri sommergibili torniamo noi perché per quanto fosse coesa la componente sommergibilistica nel difendere dai rossi e dalla crisi economica con le scelte politiche del caso il governo altrettanto non coesa anzi in realtà era coesa al contrario nel senso che era unita nel difendere i valori di dannunzio quando i legionari invagino fiume specialmente i più giovani quindi ancora una volta stiamo parlando di sommergibili ma anche di torpediniere e di masse i giovani erano molto affascinati dalla figura di dannunzio e in tanti erano convinti di fare la cosa giusta tra questi l'equipaggio dell'essere del f16 che nel 19 lascia venezia la fuga viene percepita quasi subito esce la torpediniera e riporta a casa l'equipaggio che viene isolato dagli altri non viene dato volutamente subito una punizione esemplare ma viene iniziato un processo che va per le lunghe in attesa che il clima politico visto che nel frattempo i fasci di combattimento sono già nati e il fascismo sta incominciando a dare come dire i primi segnali di vita chi è a capo della marina capisce che probabilmente l'impresa dei fiume sta scemando verso una direzione che non merita più di essere punita ma forse di essere addirittura esaltata e quindi il processo va a finire in un nulla qualche anno dopo ma la cosa bella è che il comandante della piazza marittima di venezia nel condannare il l'evento quindi la fuga del sommergibile dirà pur essendo vicino ai loro cuori e ai loro valori condanno quello che hanno fatto guardate che detta da un ufficiale superiore molto anziano un ufficiale ammiraglio una frase del genere la dice in lunga molto lunga su quella che era lo stato d'animo della marina di tutta quanta la marina non solamente dei giovincelli andiamo avanti nello stesso periodo quindi alla fine della guerra prima ancora che vengano riassegnate tutte quante le gli stati ai nuovi staterelli che devono nascere come la jugoslame l'italia cerca di piantare bandiera nelle isole e nelle coste che ritiene siano sue quindi e le unità navali e sommergibili venivano mandati nelle varie isole slave del di quello che diventerà il dodecaneso successivamente per presidiare quello che dovrebbe diventare un futuro la futura terra d'italia come sappiamo anche grazie ad annunzi a fiume il dodecaneso diventerà nostro quindi le isole che sono davanti ai dardanelli solamente una parte di istria dal mazzo diventerà nostra invece di tutto quello che ci aspettavamo ma era già un riunire parte del territorio completando quelle guerre di indipendenza iniziate quasi 80 anni prima attenzione io ho detto che finivo la trattazione del 22 infatti c'è ancora la lastrina che fa il riassunto di quello che è successo e parla del trattato di washington che è il momento in cui finisce questa tratta questa prima trattazione ma devo fare un escursus nel 1923 quando una crisi che è stata molto probabilmente io direi quasi certamente pilotata porta all'invasione dell'isola di corfu corfu è fondamentale per il controllo dell'adriatico lo vedete è una sentinella assieme a santa maria di leuca per stendere una barriera e infatti da lì passava la famosa barriera che bloccava la rete bloccava i sommergibili austro-ungarici è fondamentale per la difesa dell'adriatico e quindi l'assassinio della nostra commissione italiana che doveva andare a stabilire i confini tra l'albania e la grecia fu usata come scusa per invadere corfu e prendersela con la grecia furono mandati anche un paio di battelli al seguito delle navi che invasero l'isola quello che si legge però nei rapporti è che 24 ore dopo viene allertata tutta la flotta sommergibilistica italiana e tutta quanta deve convergere o su corfu o su tutti quelli che oggi vengono fatti checkpoint quindi gli stretti o i passaggi obbligati che cosa era successo era successo che questa nostra invasione della grecia ante litteram non era piaciuta la gran bretagna che con la sua forza navale più moderna e per certi versi anche come numeri superiore alla nostra forza navale stava dirigendo a tutta velocità verso la grecia per venire a far capire che l'italia aveva un attimino esagerato mussolini si rende conto o viene come convinto che non è il caso di mettersi a litigare con la gran bretagna fa marcia indietro e corfu ritorna alla grecia ma se la lega al dito palesemente se la lega al dito con la barina militare che lo ha convinto a tornare indietro nonostante pensasse lui il duce di avere forze sufficienti per combattere la gran bretagna e se la lega al dito con la grecia lo sappiamo bene perché nel 40 ci riproverà da capo con modalità completamente sbagliate prendendo come si suol dire una grande abusata ci sono dei momenti rilevanti nella grande guerra e adesso siamo usciti dal mediterraneo che sono fondamentali sono letteralmente delle piccole tappe delle pietre miliari che ci devono guidare nel futuro il 5 settembre del 14 c'è il primo affondamento considero in guerra è lo 2 che offonda il pathfinder britannico pochi giorni dopo l'u9 affonda tre incrociatori britannici e questo è indelebile sia nella marina tedesca che continua ad incorniciare l'u9 con con i rami di alloro e non è mai mancato un u9 nella marina nella marina tedesca sia nella marina britannica che vede con orrore quella giornata in cui perse tre incrociatori senza praticamente accorgersi di chi era stato ad affondaglieri perché penso ad un di essere intatti in un banco di mine nel maggio del 1915 viene affondato in lusitania e a settembre quindi è un'azione politica cessano le azioni dei battelli attenzione guardate a come è importante politicamente l'azione l'impegno di un sommergibile a seconda di quello che sta facendo la germania era ben coscia del potere politico economico soprattutto economico degli stati uniti e voleva assolutamente evitare che entrasse in guerra nonostante in realtà era ben poco neutrale perché già stava fornendo di armi la gran bretaglia e la francia però nonostante questo la germania si astenne già nel 1914 si asteneva dall'attaccare mercantili inizio nel 15 e lo faceva con le regole di ingaggio di allora quindi fermando il mercantile facendo scendere le persone quindi non ancora con le modalità di attacchi in guerra a meno che non battesse esplicitamente la batteria britannica o francese quindi nel settembre del 1915 addirittura le azioni dei battelli contro mercantili cessano stiamo parlando del praticamente motivo ad essere strategico dei sommergibili in quel periodo e anche durante la seconda guerra mondiale ovvero strangolare una nazione portarla alla fame per impedirle di conseguire il di continuare a combattere nel 1916 le bombe di profondità diventano operative e nel marzo lo 68 è la prima vittima nel febbraio del 17 a seguito di neutrali che non più facevano neutrali degli stati uniti che ormai stanno per entrare in guerra si era capito cessano le restrizioni quindi sommergibili comincia ad attaccare tedeschi naturalmente comincia ad attaccare indistintamente tutti quanti quelli che entrano nelle zone che sono dichiarate zona di guerra nel 1918 siamo ormai alla fine la germania sperimenta l'attacco in gruppo stiamo parlando della rudel tactic del branco di lupi non avrà un gran successo in quel momento perché le radio non sono ancora sufficientemente affidabili però guardate la lungimiranza che già adesso la germania ha sull'impiego dei battelli fondamentale vedere questa cosa ci fa capire come e perché la germania ha guidato lo sviluppo della tecnologia sommergibilistica in tutte e due le guerre mondiali nasce invece in gran bretagna probabilmente non è un caso il primo sommergibile per attacco agli altri sommergibili volutamente pensato per attaccare gli altri sommergibili è la classe r che otterrà anche un successo prima della fine della prima guerra mondiale è un mono elica con bassa velocità in superficie pochi nodi ma in realtà un altissima velocità in immersione come l'abbia detto prima a novembre del 1918 la mignatta affonda la viribus unitis è l'unico momento pregnante che ci riporta nel mediterraneo che è veramente degno di essere citato all'interno degli eventi rilevanti durante la grande guerra passiamo agli insegnamenti che tutti i contendenti sono in parte la germania perché la germania era la maestra potevano trarre dal conflitto mondiale che si era appena concluso il primo dato di cui deve tener conto la nostra marina è che durante la guerra ha svolta 4.216 milioni missioni per 800 mila miglia percorse quello che ci deve far pensare sono più i numeri delle missioni delle 800 mila miglia perché 800 mila miglia siamo in adriatico sembrano poche ma perché il bacino è ristretto e quindi anche le poche velocità di transito e di navigazione occulta in zona operativa a largo delle isole austro ungari che è chiaro che non comportassero delle grandi distanze mentre invece le missioni sono veramente tantissime queste missioni unite anche a una volontà politica austro-ungarica c'è da dirlo sono parte di quel dispositivo che ha effettuato il blocco impedito alla flotta austro-ungarica di uscire e di conseguenza ha portato alla fame gli imperi centrali tra gli insegnamenti in adriatico verso la fine della guerra avevamo abbandonato gli agguati statici per andare alla ricerca dei bersagli quindi non più il concetto della boa offensiva è un insegnamento che andrà perso per strada purtroppo prima della seconda guerra mondiale ci si rende conto della necessità di una maggiore quota operativa e questa segna la fine dei battagli tipo laurenti e soprattutto sono un segnale d'allarme potente anche se non come in gran brittaglia le perdite mercantili italiane infatti del totale dei tonnellaggio di mercantile affondato durante la prima guerra mondiale parliamo di oltre 11 milioni 853 mila tonnellate fanno parte della flotta italiana confrontate i 7 mila 800 scusate 7 milioni 800 mila britannici sono una cosa veramente risibile eppure per una quasi isola quale è l'italia che dipende dall'estero per tutte le sue materie prime doveva essere un forte segnale d'allarme che in effetti da alcune persone sarà percepito ma che non sarà messo in pratica tant'è che le prime corvette antisommergibili in italia lascerà una seconda guerra mondiale già iniziata un altro insegnamento arriva dagli ubot che costruiti il numero di 349 e sono andati perduti 186 tutti quasi tutti verso l'ultima parte del conflitto dovuto allo sviluppo delle tecnologie questo quindi doveva far ragionare tutti quanti sul fatto che in un secondo conflitto se sommeggibili fossero arrivati sarebbero arrivati di sorpresa con nuove armi nuove capacità proprio come successo all'inizio della prima guerra mondiale corse di sorpresa la seconda guerra mondiale sia i britannici che non si aspettavano che i tedeschi avessero dei battelli così sviluppati sia i tedeschi che iniziano la guerra con 30 battelli e quindi con una quantità risibile rispetto a quello con cui avrebbero dovuto iniziare quindi non solo gli italiani iniziare la seconda guerra mondiale in condizioni proprio ottimali si è percepito si è capito e nonostante si cercherà di eliminare la necessità di attacco senza preavviso tra le due guerre mondiali in realtà tatticamente è impossibile operare dando un preavviso alle unità navali si percepisce a metà del conflitto che il convogliamento del traffico e in dispensa il traffico mercantile naturalmente è indispensabile per diminuire le perdite un convogliamento del traffico fatto molto bene in atlantico con pochi convogli dotati di tante unità è molto ben protetto non così in italia dove i convogli poteva capitare che fosse fatti perfino da una unità navale e da un'unità di scorta e questo significava essere perdenti lo ha dimostrato la prima guerra mondiale e lo ha dimostrato purtroppo la seconda guerra mondiale dove l'errore è stato ripetuto c'è da dire che anche piccole potenze potranno sfidare le grandi potenze mondiali attenzione questa non è una frase citata a caso ma è ancorché sia stata stringata una frase citata dall'ammiragliato britannico nel 1919 dove è chiaro a tutti ai britannici primis che la il loro controllo del mare dipenderà dalla capacità dei sommergibili di minacciarlo tant'è vero che proveranno più di una volta nelle varie conferenze a fare in modo che i sommergibili non vengono più costruiti senza riuscirci ovviamente come sappiamo è emerso praticamente da subito che è strategicamente più importante per i sommergibili colpire i mercantili invece che le navi militari colpendo i mercantili si strangola il traffico quindi si porta alla fame sia di materie prime sia di riscaldamento sia di mangiare il paese avversario e quindi le navi militari non riusciranno più che abbattere è esattamente quello che è successo alla fine della prima guerra mondiale in germania ovviamente i sommergibili vanno studiati progettati realizzati impiegati in modo integrato con il resto delle forze navali attenzione perché c'è una sottile distinzione da fare non significa che devono operare con le forze navali quindi non stiamo cercando i fleet submarine britain statunitensi piuttosto che il nostro fiera mosca aborto che subito ci si è reso conto che non aveva alcun senso in modo integrato significa che deve esistere una visione strategica in cui ognuno ha il proprio compito in dei scenari e teatri differenti ma che assieme devono portare al controllo del mare questo pensiero è stato espresso in maniera molto chiara dal bauer ma è stata me è un diciamo il comandante della frontiglia sommergibili durante la guerra tedesco che nel dopoguerra pubblico questo libretto che in realtà sta preannunciando quello che succederà durante la seconda guerra mondiale poco ascoltato in italia nonostante sia stato tradotto da due valenti sommergibilisti pubblicato dall'ufficio storico e devo dire un vero peccato anche perché in realtà a parte di queste di questi insegnamenti le nostre menti più lucide sto parlando del bernotti ma soprattutto di di gian bernardino per chi è appassionato di storia sa che erano i nostri pensatori più all'avanguardia dell'epoca in realtà l'avevano già percepita questa cosa però neanche il bernotti nonostante arriverà a capo della squadra navale quindi sarà in grado di effettuare delle esercitazioni di creare la possibilità di capire come impiegare il mezzo e come difendersi da quel mezzo non riuscirà a mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti le percezioni che aveva avuto nella apparente fine dei sommergibili l'abbiamo già accennato verso la fine della prima guerra mondiale il contributo essenziale è stato delle ponte di profondità degli aerei e dell'asdic mentre invece le navi civetta che era quello che era stato concepito all'inizio del convoglio e del conflitto avevano portato ben pochi successi alla fine di tutto questo però una domanda ce la dobbiamo porre ed è molto importante questa domanda ma i sommergibili in quanto sommergibili sono davvero stati sconfitti ragionateci bene non date la risposta ma pensate a questo che i sommergibili alla fine della guerra non facevano parte degli equipaggi che si sono ribellati per la fame hanno diretto i tanti sommergibili che erano rimasti ancora in vita e che erano in grado perfettamente di operare verso le base le basi britanniche per poi andarsi ad affondare ad auto fondare e i loro successi tattici sono innumerevoli 7 milioni 800 mila tonnellate di naviglio britannico affondato quindi del loro avversario principale 11 milioni in totale c'è da pensarci se sono stati veramente sconfitti vi porto al 1922 e quindi all'ultima lastrina al 1922 ci arriviamo con in testa tutte le i sacrifici della vittoria mutilata della pace di versaile e nel 20 non solo in italia ma sicuramente anche in italia l'impiego dei battelli non è ancora chiaro non ostante gli insegnamenti che già erano emersi chiaramente dalla guerra in atlantico l'italia ancora concentrata su quello che accaduto nel mediterraneo e nel promemoria secchi del marzo del 1920 i battelli sono ancora considerati qualcosa di costiera non sono ancora un mezzo offensivo nel promemoria del lorenzi dell'anno successivo si incomincia a vedere un minimo la luce non in maniera completamente corretta purtroppo perché ancorché del lorenzi veda ancora i battelli come qualcosa di poco offensivo di marginale rispetto alla flotta che dovrà andare a combattere la battaglia della vita per il predominio del mare in ogni caso anche guardando alla franza lui capisce che deve sostituire la flotta dei sombergibili non solo deve sostituire tutta quanta la flotta però particolare attenzione la mette sui battelli e nel suo promemoria ipotizzava per il 1930 la necessità di 18 battelli da grande crociera e 73 battelli costieri o da piccola crociera per andare a rimpiazzare le vecchie unità oltre ad essi sombergibili posamine per completare il tutto se ci guardate c'è errore fondamentale in questo citare de lorenzi non solo lui ma anche chi verrà dopo di lui non parla di impiego dei battelli di strategia di impiego dei battelli parla esclusivamente di numero dei battelli è forse il momento più grave della nostra componente sombergibili che si ripercuoterà fino a tutta la seconda guerra mondiale e con delle influenze anche nel dopoguerra comunque sia la corsa agli armamenti alla fine della seconda guerra mondiale soprattutto tra giappone e stati uniti ma la gran bretagna non è completamente esente mette in come devo dire con vicepresidente degli stati uniti a convocare questa conferenza per il disarmo navale vengono imposti tonnellaggi massimi per le navi da battaglia per gli incrociatori vengono imposti numeri massimi anche per rimpiazzare le unità che sono già in servizio viene imposta una cosa molto importante la parità navale parliamo di numeri e di tonnellaggio tra gran bretagna e stati uniti attenzione fondamentale questo per due motivi primo perché dice che gli stati uniti ancorché assieme alla gran bretagna sono diventati la prima potenza mondiale e quindi cominciano ad avere il controllo del mondo che continuerà poi anzi si affermerà dopo arrivando fino ai giorni nostri e il secondo item che dobbiamo valutare è che questa parità permette di verificare una alleanza anglo giapponese che nel pacifico dove gli stati uniti stavano cominciando ad avere grossi interessi poteva essere come vogliamo definirla fastidiosa in qualche modo ricordiamoci che la gran bretagna con il suo britannia russa era ancora convinta di essere padrona dei mari anche durante la seconda guerra mondiale quando in realtà il dominio era già passata miglior vita per l'italia invece che è partita con un mandato ben preciso arriva anche di più di quello che si stava ipotizzando l'italia ottiene la parità di tonnellaggio e di numeri con la francia guardate che non solo non è scontato ma è anche ingiusto nei confronti della francia perché la francia in quel momento era la seconda potenza coloniale al mondo quindi le sue navi la sua flotta dovrebbe essere sparpagliata per i cinque continenti di fatto con forte difficoltà a riunirsi la marina italiana ancora senza colonie a parte la libia che comunque era sempre lì e dove caneso che era poco lontano comunque sempre nel mediterraneo la flotta ce l'aveva tutta concentrata per cui una parità in numeri in tonnellaggio con la francia significava avere un predominio nel mediterraneo molto forte rispetto alla francia è una cosa che verrà portata avanti sempre anche nelle trattative successive e che sarà limitata solamente dai bilanci nel senso che non raggiungeremo la parità con la francia perché mancano i soldi per costruire le navi e secondo me questo era ben chiaro nei britannici soprattutto negli stati unitensi che vogliono questa parità con la francia perorarono la nostra causa la nostra causa scusate proprio perché volevano in qualche modo animizzare la francia come potenza rendendola non più un problema per il loro dominio del mare nell'ambito dei sommergibili c'è un evento particolare che avevo già accennato ovvero la gran bretaglia ci prova dice i sommergibili devono essere aboliti non devono più esistere sommergibili al mondo e si fa anche forte il rappresentante britannico verso la francia e l'italia dicendo ma scusate voi siete state vittime anche forse più di noi durante la guerra dei sommergibili tedeschi non vi ricordate quante naviglio vi hanno affondato noi e qui barava spudoratamente siamo stati in grado di fronteggiarla anzi mi siamo anche venuti in aiuto ce la farete la prossima volta da soli in realtà la gran bretaglia senza resta di uniti non ce l'avrebbe mai fatta però rimane il fatto che alla fin fine questo accordo non ci sarà l'italia gli stati uniti la francia sanno perfettamente che non è un'arma difensiva ma la giudicano come tale viene proposta una riduzione dei tonnellaggi in realtà si arriverà solamente a qualcosa di non molto dissimile da quello che c'era prima della guerra vero una inattuabile regola di ingaggio delle del mercantile avversario da parte del sommergibile che doveva emergere andare a verificare se la nave neutrale era veramente neutrale far modo che l'equipaggio si salvasse via dicendo quindi qualcosa di assolutamente realizzabile io con questo scusandomi nuovamente per il raffreddore che mi ha colpito completo la prima parte sperando di essere stato esauriente per quanto possibile di aver regalato anche qualche chicca di quelle che non sono normalmente note al grande pubblico assolutamente io ti ringrazio e poi anche dato la folta schiera di ascoltatori che ancora tiene due botta direi che è stato interessante e io magari ti vorrei chiudere con la domanda osservazione barra domanda quindi insomma e poi diciamo la riaffronteremo nella seconda puntata questa l'esperienza della grande guerra quindi per l'italia l'utilizzo del sommergibile come boa galleggiante boa offensiva schierata in choke point comunque in un in uno scenario dove il traffico era rifatto questa esperienza avrà un ruolo su come verranno progettati i sommergibili successivamente e come sarà la dottrina d'impiego dei sommergibili della seconda guerra mondiale assolutamente sì aggiungo purtroppo sì ma va anche aggiunto un'altra cosa che la francia la gran bretagna gli stati uniti il giappone non saranno tanto diversi da noi anzi il giappone gli stati uniti continuano persevereranno nel voler cercare di creare i flitsabari cioè i sommergibili che viaggiano assieme alla squadra invece che operare autonomamente gli unici o quasi che continueranno a comprendere qual è il vero significato di operare con un sommergibile saranno i tedeschi e ce lo dimostreranno ampiamente con la seconda guerra mondiale dispiace vedere che ma lo vedremo anche questa la prossima puntata nella prima grande esercitazione che si svolgerà nel 24 una delle prime cose che vennero notate erano le grandi dimensioni delle torrette dei sommergibili una cosa che ci sentiremo dire vent'anni dopo da denis quando i nostri batteri arriveranno a bordo aggiungo io porca miseria in vent'anni non siamo stati capaci di ridurre le dimensioni delle vene di abbassare le camicie dei periscopi anche quella no la 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 dimensione delle camicie era perché appunto si concepiva che il batterio doveva stare in agguato in immersione e quindi aveva bisogno di di stare di avere cioè immersione relativamente in profondità e quindi aveva bisogno di una di un periscopio che usci lungo diciamo per e la camicia serve appunto per proteggere dalle vibrazioni del del mare corretto corretto ok bene io la marco ti ringrazio e ora ci sentiremo per la seconda puntata grazie di nuovo a chi ci ha ascoltato e commentate lasciate i like e poi ci rivedremo molto presto quindi la buona sera da tutti buonanotte a tutti